Bene, salve signori e signori, oggi abbiamo Andrea Butini, mio corsista che ha appena cominciato a pubblicare una trilogia con Mondadori, una trilogia Dark Fantasy, Andrea dici qualcosa su di te. Ciao, ciao a tutti, niente, vedo un sacco di commenti, buonasera a tutti, niente, sono Andrea Butini, come sentite sono toscano e niente, sono corsista del Duca dal 2021, sì, più o meno. Non ha ancora imparato a mettere il sale nel pane a quanto ho capito. È vero, è vero, sì, sì, il pane col sale non ci piace a noi. Niente, sono contento di essere qui, grazie Duca per l'opportunità. Allora, oggi con Andrea vedremo diverse cose, parleremo un po' di storie seriale e corali, perché appunto è stato un elemento importante della sua serie lavorare su quel lato, parleremo della sua esperienza di pubblicazione, cosa ha fatto proprio da principio, cosa conosceva, cosa aveva studiato quando ha cominciato con le sue cose. Ci sarà un momento in cui probabilmente farà un cane allo spiedo, qualcosa di simile, modalità, rosti a casa Doom, però non è detto. Sì, perché ogni tanto abbaia. Hai un Doberman, giusto? Sì. Perfetto, ottimo. Comunque signori, oggi vedremo un pochino di cose tecniche che vi possono servire, un po' per capire come ci si presenta a un agente, a un editore, fondamentalmente per far capire in sintesi, in modo molto semplice, cos'è il proprio libro e perché può essere interessante. Capirete qualcosina in più del lavoro in generale che è stato fatto in questi due anni, prima che arriva la pubblicazione. Vi parlerà un po' della sua trilogia. Insomma, diverse cose che vi possono interessare, anche perché noi abbiamo due cosine da vedere poi. una è il fatto che semplicemente ci sarà un regalo per chi partecipa a questa live, vi verrà spiegato quando arriverà il regalo e come arriverà, vi verrà detto anche che cos'è, più avanti, con calma. La seconda cosa, non posso dirvi nel dettaglio, ci sarebbe uno spoiler, non ve la posso in dettaglio, diciamo che è un qualcosa che vi può servire e se vi interessa, ad esempio, fare una carriera con grandi editori come ha fatto Andrea Butini o come hanno fatto altri miei corsisti, penso a Stefania Spano Ingarzanti, penso, non so, anche alla carriera con i romanzi storici che sta avendo Livio Gambarini con PM. Insomma, se siete interessati al grande editore o comunque a ragionare a livello professionale con gli editori, è un qualcosa che vi può interessare e che arriverà, diciamo, nella settimana del Black Friday. Non vi posso dire di più, vi posso dire che sarà coinvolto un autore con oltre 12 pubblicazioni con i più grandi editori, ok? Però non vi dico altro, ok, signori? È una cosa che vi può interessare, però, ok? Ne parleremo più avanti. Allora, vediamo un pochino che c'è oggi, signori. Ah, Luca Meta, la va bene. Vittoria che a quanto pare ha appena sentito il buon Butini. Molto bene. Lenny. Ciao Romano. Ciao Isabella. Ciao Eva. Bene, bene, vedo vari saluti. Insomma, siete parecchi, siete già 60 persone, quindi bene così. Buonasera a tutti. Non sto a commentare uno per uno, tanto vedo che sono soltanto saluti. Comunque, molto bene che siete qui perché troverete varie cose interessanti durante la live. Scusate se sono un po' rintronato, ma ho avuto valanghe di lavoro da fare e cose da seguire. Lanfranco apprezza assolutamente. Bene, allora dai, partiamo dall'inizio, tanto poi passiamo a dare i regalini dopo. Prima cosa, Andrea, c'è qualcosa che vorresti assolutamente vedere prima di cominciare questa intervista? Una cosa che assolutamente ti preme e ti interessa? Certo, siamo tutti qui per il trucco di magia del boccale di birra. Perché? Giustamente. Comunque, al di là del trucco del boccale, io ho preparato in tuo onore dell'Occhio del Gufo questa bellissima birra a tema Gufo. È la Blue Velvet, una robust port da 7 gradi di... Oddio, come si chiama? Ah, è birrificio Godog, Godog italiano. Quindi abbiamo una birra in tuo onore, che richiama il Gufo. Però prima di versare veramente una birra dentro qualche luogo, facciamo il trucco di magia, signori. Questo, vedete, è un boccale, assolutamente. Un boccale, vedete, si muove, c'è un liquido, c'è la schiuma. Vedete che è un boccale, no? Insomma, c'è poco da contestare che sia un boccale, no? Questo è un portatile. Non ve ne accorgete, ma qui c'è la webcam, qui c'è un portatile, abbiamo i tasti. Ovviamente non è a prova d'acqua, non è impermeabile, eccetera, eccetera. Quindi, ad esempio, se io prendessi questo boccale e magari lo rovesciassi con tutto il suo bellissimo contenuto, no? Sulla tastiera dovrebbe tipo friggersi, saltare tutto, perdiamo la connessione, perdiamo la live, rimanete da soli con Butini, che vi racconterà tutte le cose sconce, orribile, tremende, che gli ho scritto nei commenti del suo testo, incluse mini storie assurde a base di satira interna con commenti tratti tra videogiochi e romanzi, cose bestiali, orribili. Peggio della freccia al ginocchio di Skyrim. Quindi, signori, vedete, abbiamo un boccale, abbiamo un boccale, abbiamo un boccale, se le siano questo boccale friggeremo tutto, quindi... Oh! Magia. Eh? Bene, signori. Avete avuto il vostro trucco di magia di cui siete entusiasti, ma adesso mi verso una birra in un boccale vero. Un boccale che non si può usare per i trucchi di magia. Quindi, signori, bene, partiamo con Andrea. Andrea, raccontaci qualcosa da zero. Tu da cosa vuoi partire? Vuoi partire da quello che ti è successo, quindi quello che tu ti sei detto quando hanno accettato il tuo libro, e poi tornare indietro dopo a come è partito tutto e quindi come è candidato il tuo libro e come il tuo libro alla fine è arrivato a Mondadori? O vuoi partire proprio da zero e poi arriviamo a che cosa hai fatto quando... Ah, partiamo dal mezzo, dai, così facciamo un po' di linee temporali mischiate. Allora, chiariamo prima una cosa. Tu non sei partito che non sapevi proprio niente. Tu sei partito che avevi già un minimo di formazione. Quindi partiamo dal fatto che avevi quel minimo di formazione, qual era? E chiariamo esattamente qual era nel dettaglio. Vai. Allora, il minimo di formazione che avevo era quello dato da, innanzitutto, l'esperienza di lettura di un lettore forte, insomma di un lettore che legge tanto, di un lettore che poi vuole iniziare a provare a scrivere e che quindi si affaccia per la prima volta nel mondo dei manuali di scrittura, insomma, che ce ne sono miliardi. E quindi passiamo dall'arco di trasformazione del personaggio, l'eroe dei mille volti, insomma, tutti quei manuali che conosciamo tutti. E niente, quindi il problema era che lì le informazioni sono molto frammentate, molto confuse. Diciamo che le basi te le danno, ma è difficile, molto difficile orientarsi. Vero. Tanto io ho una valanga di manuali. Tutti quelli, sì, anch'io. E se non avessi, cioè, se fosse bastato avere i manuali, io non mi sarei trovato obbligato a creare il corso, che ho creato tra l'altro quando non pensavo veramente di vendere il corso. Mi era pensato per addestrare più rapidamente gli scrittori di Vaporteppa che all'epoca doveva addestrare uno per uno, facendo incontri su Skype in cui gli spiegavo le cose. E con tutte le difficoltà che avevano i problemi, quindi in realtà è nato da un'esigenza non tanto di vendere, ma da un'esigenza di, mio Dio, non posso dirgli leggi due o tre libri perché non esistevano quei due o tre libri da leggere. E non bastava neanche dargli, che ne so, il mio documento di, cos'è, 20-30 mila parole che poi è diventato il corso base. Non bastava neanche quello perché non c'era sufficiente supporto, perché sono ottimi testi, non tutti sono ottimi ovviamente. Ma molti sono ottimi testi, alcuni magari sono ottimi per alcuni elementi, ma nell'insieme magari si perdono, però sono letture che consiglio. E però alla fine rimane quella cosa che ti manca davvero un'unicità. Tu, tra l'altro, essendo partito in maggio con questo certo tipo di testi, principalmente saranno stati quelli che parlavamo di progettazione delle storie o, come dico io, un po' impropriamente sceneggiatura. Esatto, infatti, se ti ricordi, la tua progettazione comunque non è che ci ho lavorato molto poi dopo, nel senso ho ricominciato a lavorare più che altro sulla parte della scrittura, dello stile di scrittura. La sceneggiatura, quella che avevo fatto ai tempi, è rimasta quella. Abbiamo dovuto dare dei ritocchini, mi sembra, soltanto sul personaggio di Shai, giusto? Sì, sì, solo su Shai, esatto. Poi magari quelle cose le vedremo, le vedremo magari quelle cose in modo più approfondito in futuro, ma per i corsisti avanzati. Tanto alla fine sono dettagli che senza aver letto un romanzo e senza avere magari una guida che faccia un confronto tra, non so, qualche dettaglio corretto prima e dopo non hanno senso, quindi direi. Inutile parlare qui, non capirebbero neanche perché manca il contesto, un contesto che arriva fino al terzo libro. Sì, esatto, esatto, anche perché comunque anche Shai, è un personaggio che non è il primo personaggio che trovi, ma è uno degli ultimi, insomma, anche del primo libro. Perfetto. Lato scrittura, invece, tu avevi come base per l'Occhio del Gufo, quindi lato sceneggiatura, sbarra progettazione, avevi l'esperienza di lettura con romanzi corali, seriali fantasy, eccetera, immagino George Martin, Abercrombie, cose così, immagino. Sì, Sanderson, tutti quegli scrittori, insomma, lì, tutti quelli che affrontano le storie corali, insomma, sono quelle che mi piacciono di più. Quindi la mia intenzione era scrivere una storia corale con tanti personaggi, sperimentare l'intreccio delle storie di più personaggi che vanno a confluire, non per forza nel formare il gruppo che poi si ritrova come nei classici fantasy, insomma, di fantasy più classici, insomma, però volevo, esatto, quell'incrocio di più personaggi che confluivano verso la stessa direzione della storia, anche se poi loro non si univano, insomma. Esatto, esatto, perché alla fine abbiamo pochissimi punti di vista che sono prossimi l'uno all'altro. Vero. E questa è una cosa anche molto buona, perché diamo maggior funzione al romanzo corale che deve mostrarti anche tante realtà temporali, geografiche diverse, che vanno poi a unirsi verso una macro storia unica, quindi molto bene. Poi entriamo più nel dettaglio dopo. Esatto. Su storia corale seriale, anche le difficoltà che hai avuto e tutto. E in prospettiva cosa faresti di diverso adesso? O cosa faresti di diverso in futuri romanzi? A livello di progettazione. Ecco, dicevo, progettazione e sceniciatura, appunto, la tua esperienza, i romanzi che spesso sono rivolti al cinema, alla serialità di quel tipo e non alla narrativa, per ovvi motivi, perché non c'è abitudine, di progettare correttamente in narrativa. È un'anomalia molto recente, in Italia fondamentalmente l'ho portativa di portare a narrativa queste cose. All'estero pure comunque tante volte partono il presupposto di spiegarti queste cose che di solito in narrativa non si fa, perché non ci sono abituati, non c'è abbastanza mentalità di quel tipo. Però la tua scrittura avevi già studiato, ancora prima di conoscere me. Ti hai riformato, se ricordo giusto, su che cosa? Sui manuali quelli lì, e poi, non lo so, il forum di Gamberetta. Il sito di Gamberetta, infatti, sui tre articoli di Gamberi Fantasy dedicati a mostrato, descrizioni, e l'altro cos'era, dialoghi, credo. Mi sembra che sì, dialoghi, sì, sì, sì. Quindi sono la formazione tecnica, erano qui. Gli storici conosceranno il sito di Gamberetta, insomma. Tutto il discorso del mostrato e del comunque far vivere la vita dal punto di vista del personaggio e di far vedere le cose senza stare a raccontare i pipponi, gli spiegoni su quello che sta succedendo, eccetera, eccetera. Quella base c'era, esatto. Però avevo bisogno, per l'appunto, di, come si dice, di solidificarla, ecco. Ok, però comunque la base era molto solida, perché adesso, una cosa che magari Andrea potrebbe non dire, per cui la dico io, quando lui mi ha presentato, la prima volta che abbiamo visto il primo capitolo, non ricordo se era il primo, il secondo, il terzo incontro, non ricordo in che incontro era, me l'aveva presentato come se fosse una cacata spazzella, per la versione del primo capitolo. Io l'ho letta, ma non è vero, io l'ho letta e ti ho detto subito, è evidente per quale motivo ti hanno scelto. Cioè, al di là della parte che ti interessa maggiormente, di presentazione, poi ci arriveremo dopo, ma se uno, per esempio, anche senza nessuna competenza, perché alla fine di solito gli editor, gli selettori, sono lettori normali che hanno poche competenze, ti leggeva quel brano che ho visto io, era giusto, era multisensoriale, ti dava quell'atmosfera di disagio della locanda, di cui poi parleremo, parleremo in un contenuto futuro, poi saprete tutto tra poco, quando vi spieghiamo come ottenere il regalo, eccetera. Cioè, c'era tutte le cose, tant'è che ti ho fatto i complimenti dicendo, è evidente per quale motivo l'hanno preso, se anche l'avessi visto io, io quel test ti avevo detto, cazzo, interessante, l'autore sa trovare i dettagli, l'autore è multisensoriale, l'autore ha capito come si scrive, e poi tu, mi ricordo, mi hai cazziato dicendomi, guarda che non è così, guarda dopo, e dopo si vedeva che tipo il punto di vista non avrebbe potuto notare quelle cose. Sì. E' stato bellissimo. Perché era tutto giusto fino a quel punto, cioè, minchia. Poi in realtà con due accorgimenti è modificato e si è fatto in modo che potesse notare tutto, era facilissimo. Ma per me invece, per me la scrittura era molto buona, anche se quando avevi scritto quel testo, riveliamo, non avevi fatto neanche il mio corso base. C'è qualcosa che non funziona? Allora, facciamo una cosa che non capisco se sono io bloccato o lui. Mi segnalate se vedete Butini bloccato o se vedete M bloccato? Se vedete M bloccato è meglio che non possiate saperlo. Ok, chi è frizzato però soggetto? Il cane gli ha mangiato la rete, io mangio Butini è frizzato? Mi confermate se mi sentite? Perfetto, Butini bloccato, Butini bloccato, vedo Butini bloccato. Ok. Aspettiamo un attimo perché c'è molto maltempo anche in zona casa sua, quindi è probabile che ci siano casini legati al maltempo. Ok? E poi torniamo sul discorso iniziale perché è molto interessante, il fatto che non avesse il mio corso avanzato, è molto interessante, vi fa capire quanto si può ottenere anche da poco se avete il cervello acceso, ma come poi servono di più, ma aspettiamo che torni. Nel frattempo vi ricordo che il romanzo di Butini tra l'altro ha un vantaggio che pur essendo un Oscar fantastica, quindi Oscar Volte, non hanno fatto il cartaccio enorme, è presente che le critiche sul fatto che gli Oscar Volte tante volte sono magari belli, bellissimi, però costano almeno 24 euro, ne ho visti anche a 30-32 euro tante volte, ecco. Questa volta per renderlo più accessibile, perché è un libro pensato non per vendere in un istante e poi scomparire, ma per essere un long seller del dark fantasy, o almeno questo è l'obiettivo che è stato immaginato, è stato fatto in versione più economica possibile, che è un Oscar fantastica, in versione morbida, ad appena 16 euro, che 16 euro ormai è un prezzo ridículo, ma perché è pensato presso un long seller e vendere per anni, anni, anni nell'ambito dark fantasy, quindi è una cosa secondo me molto interessante questo approccio. Eccolo qua, è tornato. Mi è crashato tutto. Perfetto. Sei di nuovo vivo? Sì, può succedere che si disconnetta a volte, purtroppo vivo nella foresta, quindi... Perfetto. Ho raccontato che il tuo paperback ha un prezzo molto contenuto, ed è perché è pensato presso un long seller, è non il libro decorativo da mettere in libreria, e poi neanche lo leggi perché deve avere semplicemente un bell'aspetto, però magari costa 30 euro come tanti Oscar Volt, ma è pensato presso un libro da vendere davvero. Mi viene un paragone, i rosa in Oscar Volt della linea Oscar fabula, tipo Icebreaker che è un rosa, è fatto esattamente così, è grosso come il tuo libro, costa 16 euro identico, perché sono quei libri pensati per macinare un sacco di copie anche del lungo periodo, quindi è una scelta secondo me carina, cioè è il libro meno bello in libreria. Esatto, è comodo anche da usare. È comodo da leggere perché è molto morbido e non... Secondo me merita, cioè vale la pena, oltre a fatto con un risparmio almeno 8 euro, visto che di queste dimensioni uno di quelli che si sono dai 24 euro in su sono addito a 30, quindi comunque un libro pensato insomma per diffondersi facilmente, essere comodo a leggere, eccetera. Tanto molto molto carino, molto molto bene. Allora, torniamo al discorso che dicevamo. Sì, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Lenni ci dice che il secondo volume è stato annunciato oggi, poi non abbiamo il giorno esatto, giusto? No. No, il giorno esatto no, sappiamo che è novembre. Cioè, io lo so, ma non lo posso dire finché non lo annuncia la casa editrice. Perfetto. Comunque novembre. Novembre, da qualche parte a novembre come ha detto l'account di Oscar Volto è su Instagram, quindi perfetto. Allora, torniamo al discorso di prima, dicevo, tu sei riuscito a ottenere questo stile di scrittura che a me era piaciuto tantissimo senza aver fatto nemmeno il mio corso base. Chiariamolo, lui non aveva il corso avanzato e non aveva il corso base neanche quando è riuscito a posizionarsi con, immagino, cos'hai mandato? Il primo volume intero l'Incipit. Cos'è successo qui? Ok. Sei tornato? Mi vedo bloccato. Ok. Sì. Ho mandato il primo alla all'agenzia, dicevi? Sì, all'agenzia, sì. Ho mandato il primo volume intero con la Sinossi e insomma, tutto quello che si manda nella proposta. Quindi, era il primo volume nella versione precedente che poi ho riscritto quando, dopo aver studiato il corso e aver affinato lo stile di scrittura, insomma. Bene. Allora, concentriamoci allora sull'invio del libro, poi torniamo dopo alla questione dell'aver studiato, dell'aver affinato perché ci possiamo collegare ad altri discorsi interessanti. Tu esattamente, parlaci proprio da zero di come è candidato il tuo libro, dove hai provato a candidarlo, cosa è successo, se vuoi dire anche più o meno come l'hai presentato, proprio terra terra. Le cose terra terra perché si collegano bene a tutti quei contenuti, a quelle robe fighe che vi arriveranno nella settimana di Back Friday, tenete da parte i soldini, sarà una roba figa. Vai. Allora, dico anche quella da Verginello con il con il manoscritto stampato, mi ero stampato il manoscritto insomma e per l'appunto era, eravamo a ridosso di un Luca Comics e io ero andato con il pacchetto del manoscritto a Lucca e ero andato da una da una casa editrice, non facciamo assolutamente il nome, molto grande, sì, molto grande, non la Mondadori, un'altra casa editrice grande, a proporlo e c'era per l'appunto un pezzo grosso, diciamo, e quindi io lì molto timido, sì, salve, volevo provare a proporvi questo lavoro, eccetera, eccetera. Io sono stato assoluto. C'è momentaneamente svanito Andrea? Credo, io non lo sento perlomeno. Dovete avere un po' di pazienza in questa live che ci sono un po' di problemi. sento tipo delle sillabe con l'eco, io, non so voi cosa sentite, vabbè, vediamo se riusciamo a recuperare Andrea, cazzo, erano partiti bene, funzionava bene. Andato via Sì esatto, siamo arrivati a Io sono stato. Perfetto. Sì, abbiamo la live con i cliffhanger. Esattamente come voi dovreste pensare, ma se ne parla altrove certe cose da fare per candidarvi che ho grande editore, ma se ne parla in altri contenuti, in altri momenti. Intanto aspettiamo il ritorno di Andrea, e sì, oggi avremo molta suspense, signori, Allora, potrebbe essere un'idea in effetti. Vediamo, appena torna. Allora, signori, comunque, appena torna ci racconta il suo caso, io intanto vi ricordo, appunto, non aveva studiato il corso né avanzato né quello base, e è arrivata al corso avanzato dopo aver già poi piazzato il libro, e quindi se l'ha già trovata a dover dire, ma ve lo dirà lui, e a quel punto ha deciso di fare il corso avanzato. Perché vi dico questo? Perché se anche voi avete piazzato un libro con l'editore, al dirà che ci vogliono magari un paio di anni da quando lo piazzate a quando viene pubblicato. Da uno a due anni. Mettiamo la gente di mezzo, che so, impiegate un anno piazzata la gente, la gente impiega un anno e dei mesi a piazzarlo l'editore, l'editore impiega un annetto e qualcosa, due annetti passano. Al dirà che nel frattempo probabilmente si sono dimenticati di cosa parla il romanzo, però, nei limiti che magari non è che volete cambiare un romanzo da cima a fondo, voi proponete un fantasy con gli scarafaggi giganti che nessuno pubblicherebbe mai e poi lo cambiate di ventaglia, non intendo quello. Ma margine per ritoccare molto, cioè, quindi se una persona si trova a dire mi hanno accettato un romanzo e poi dice minchia però non so scrivere, che cazzo ho fatto, l'ho candidato per scherzo, che ne so, la possibilità di rifare da zero, riscriverlo da zero e quindi fornire poi un testo definitivo, molto migliore, ovviamente nei limiti del è quel romanzo lì, a virgolette, non è un'altra storia, ecco, per esempio nel caso di Andrea come vedrete ha mantenuto la terza persona pur avendo imparato a scrivere in prima nel modo migliore, ha detto no, tengo la terza e ragioniamo come diventare più esperti possibili nella terza persona. Però qui Andrea non sta ancora tornando, speriamo ritorni in tempi brevi. insomma c'è un c'è la possibilità di fare parecchi miglioramenti, quindi non è che siete condannati che vi siete trovati magari con un ottimo progetto editoriale e quest'ottimo progetto editoriale magari si è piazzato, non siete condannati alle stie di scrittura in cui era quando l'avete piazzato, avete molto margine di miglioramento e anche di rifarlo proprio come l'ha fatto Andrea. Tutte cose che poi ne riparleremo verso Black Friday più nel dettaglio. Senti Andrea, mi diceva David che se provi a mettere forse il video in definizione più bassa può aiutare, però non so perché temo che siano, visto che la tua linea in realtà è molto buona, credo siano problemi di interferenza legati al maltempo e basta, no? Giusto? Si è rifrizzato, non so se abbiamo molte speranze che questa live vada in porto così però. Vediamo che riusciamo a fare. perché di base quando gli funziona è meglio della mia come linea perché la mia linea non è che sia geniale, probabilmente è colpa della posizione in cui mi trovo. Io sento dei rumori ma non vedo Butini muoversi. Vediamo che succede. Butini, tu mi senti? niente? Io sento i click del mouse e vedo che stai procedendo. Vediamo che succede. penso che è arrivato a due ore di live abortiremo perché non funziona ma che appunto sarà terminata la live. Vediamo un po'. Che è un peccato perché appunto quando non ci sono casini così funziona benissimo. Vi ho detto funziona meglio della mia come connessione che abbiamo fatto le prove, le chiamate, eccetera e funziona tutto da Dio. Allora, intanto poi alcune cose posso rispondere io. Tipo Lorenzo chiede scrittura della Cetebuti o dell'agente o della Mondadori? Allora, sullo stile di scrittura tenete conto che col fatto che gli editori che alla fine sono semplicemente un editore una casa editrice è semplicemente un insieme di impiegati che vendono libri allo stesso modo in cui potrebbero vendere scarpe. Non ci sono competenze tecniche o altro. Che è anche il motivo per cui tante volte c'è la delega all'esterno dei servizi di editing correzione bots eccetera. anche gli agenti letterari gli agenti letterari sanno come piazzare i libri a chi piazzarlo quello che conta è il networking è le conoscenze non c'è una questione di scrittura dietro cioè non arriverete all'agente letterario perché siete incredibili maestri della strutturazione in cinque atti eccetera capito? O in tre ok? Servono altre cose che in realtà sono le stesse cose che in segno servono per piazzare ad esempio che ne so le idee dei libri quando mi candidano libri per Vapore Teppa o comunque perché li seguo a pre piazzare io con degli editori ecco. La questione è che appunto lo stile di scrittura sta a voi infatti in questo caso è stato Butini che ha scelto di riscrivere tutto quanto a dire che il terzo libro forse doveva anche proprio scriverlo da zero ma ha scelto lui di riscrivere tutto quanto adesso vediamo un attimo ecco infatti in Toscana sta diluviando che era il timore che aveva Butini che se arrivava al diluvio non funziona moncazzo datemi un secondo che verifico ecco Andrea mi ha scritto in privato dice sfiga vuole che sia arrivato un temporale proprio adesso non mi va neanche l'hotspot è bene ottimo quindi credo che dobbiamo aspettare che torni Butini intanto se volete rispondo ad altre questioni allora in realtà guardate che non funzionano così le case editrici le case editrici non lavorano alla struttura dei libri qualche volta le case editrici lavorano all'editing ma in realtà come poi scoprirete gli editor migliori delle case editrici sono quelli che magari selezionano i testi migliori e poi non li toccano perché appunto il redattore editoriale che voi chiamate volgarmente editor ma l'editor nei case editrici italiani non esiste è una figura anglosassone priva di corrispettivo italiano in Italia c'è il redattore editoriale che non è l'editor è una persona che si occupa di una serie di cose burocratiche che magari si occupa qualche volta dell'impaginazione fa varie cose ma non è quello che conosce la retorica applicata alla scrittura al di là che anche negli Stati Uniti la figura dell'editor degli anni 60-70 è praticamente morta per tutta la tematica di cui vi ho già parlato in passato vi ho già accennato in passato in vari contenuti non so nel corso avanzato dove del fatto che fin dagli anni 90 negli Stati Uniti si è fatto la delega all'esterno dell'editing semplicemente hanno fatto tra virgolette licenziare gli editor veterani nelle case degli statunitensi in modo che diventassero come diremmo noi licenze e ti diventi una partita IVA che cazzo ne so o non ti assumiamo fai la partita IVA li pagavano li prendevano li pagavano dall'esterno con il problema che in questo modo quegli editor che avevano già una certa età perché avevano già non hanno potuto formare dei giovani editor interni alla casa editrice in quanto diventati professionisti esterni e questo ha portato poi alla morte della figura dell'editor come esisteva diciamo 50 anni fa alla morte della figura dell'editor negli ultimi 20 anni circa sul mercato statunitense ok sono fioccati i corsi di scrittura sono fioccati i manuali ma la tradizione del cosiddetto editor tradizione che non esisteva in Italia che era tipica del mondo anglosassone è morta con quelle variazioni che sono state fondamentalmente le stesse che avete visto nel mondo di lavoro di oggi dove appunto se appena appena si può evitare per pagare meno tasse avere meno casini burocratici e contrattuali di assumere qualcuno gli fai fare la partita IVA tra virgolette ok bene succedeva un po' così anche negli Stati Uniti quindi è normale che in Italia non ci sia quel tipo di lavoro che non c'è più neanche negli Stati Uniti fatevi due domande secondo voi c'è un raffinato lavoro di editing di struttura di verifica di controllo di quello che si dice che ne so in una trilogia pubblicata con un grandissimo editore dove l'autrice che è convinta di voler mostrare la cultura russa nel mostrarla ti dice che il cuvas K-W-S uno dei modi per trascriverlo il cuvas è qualcosa di super alcolico che si beve coi bicchierini il cuvas una bevanda che in Russia bevono i bambini bevanda tipica della cultura ucraina polacca russa il cuvas letteralmente una specie di immaginate una gassosa fatta a partire dal pane di segale con un delicatissimo grado alcolico un grado un grado e mezzo due gradi le versioni commerciali arrivano magari a tre e mezzo che è il limite minimo per essere considerata da noi una birra come grado alcolico anche se quella non è birra tecnicamente per favorire la conservazione più a lungo intanto c'è tutta una questione tra K-W-S e alcolismo in Russia perché non diventano alcolizzati per la vodka diventano alcolizzati perché fin da bambini bevono magari si spara in un pomeriggio due o tre litri di K-W-S che magari c'ha un grado e mezzo di alcol due gradi di alcol due gradi e mezzo tre gradi tre gradi e mezzo cioè ai cinque anni ti sei bevuto tre litri di K-W-S con tre gradi proprio a posto non stai ecco lo fai per tutta la vita e il meno è la presenza della vodka in quella cultura si diventa alcolizzati per quella bevanda tanto ci sono paper gli articoli online se vi interessano io sto aspettando che i buttini torni mi dispiace non è colpa nostra se il megatemporale in Toscana anche perché tutte le sue alternative per avere una rete migliore erano tutte in Toscana quindi non c'è molta scelta e cos'è successo? giusto per fare quell'esempio del immaginate trilogia fantasy super famosa non vi dico il titolo penso che vi dedicheremo una live in futuro perché tanto non mi è neanche dispiaciuta per alcune cose e ci trovi dentro il K-W-S presentato come una bevanda super alcolica ah e non è un'autrice calabrese che lo dice un'autrice statunitense il K-W-S lo trovi nei supermercati negli Stati Uniti cioè direttamente andare a fare la spesa quindi il livello di capire cos'è il K-W-S se vai a fare la spesa guardi la comunità russa degli Stati Uniti è enorme giusto per dirvelo enorme e anche molto incazzata con quei romanzi altra cosa al di là del K-W-S non so metti un Samovar presente cos'è il Samovar e scrivi rendendolo molto chiaro che il Samovar sia una cosa da cui esce il tè il tè dal Samovar il Samovar non esce il tè il Samovar mantiene l'acqua calda a temperatura per allungare un tè concentrato fatti un'apposita teiera spesso riposta sopra il Samovar per mantenersi tiepida chiaro? benissimo il Samovar e il K-W-S sono due aspetti della cultura delle bevande russe ucraine soprattutto russe soprattutto russe il K-W-S russe ucraine polacche fondamentale per sapere cosa sono in realtà ti basta aver letto un paio di classici russi per dire o nel senso Stato Unite andare in un supermercato quell'autrice che tra l'altro alcuni dicono oh che brava c'è tutta la cultura russa dentro riuscita a sbagliare tra le tante cose anche quelle robe che richiedono letteralmente un livello di controllo di 5 minuti su Google se sei italiano o di andare al supermercato se sei come quell'autrice Stato Unite bello eh perfetto quindi secondo voi e sono romanzi usciti diciamo un po' meno di 20 anni fa credo una quindicina di anni fa 10 anni fa non mi ricordo secondo voi se voi vi trovate a pubblicare questa roba e vi assicuro che si vedono e comunque ci sono altri problemi anche più grandi questi sono quelli molto offensivi ok e la gente l'editor il correttore tutta la trafila di persone che nell'immaginazione del pubblico dovrebbero aiutare a rendere il romanzo migliore possibile non se ne sono accorti secondo voi quale importante lavoro editoriale c'è negli Stati Uniti tipicamente un cazzo di niente esattamente come in Italia funziona così è il motivo per cui voi dovete arrivare già competenti e indipendenti altrimenti non avete delle possibilità ok Andrea non so quando tornerà in vita perché il problema è che qui è crollato tutto quindi e poi lui parte per Luca perché ha un ve l'anticipo io poi magari loro diciamo giusto la cosa dei cognomi esatti i cognomi nella cultura russa hanno il maschile e il femminile ok è una grossa offesa alla cultura russa mettere i cognomi al di là che ci sono anche dei nomi femminili applicati a uomini e maschili applicati a donne ma dovrei controllare i miei appunti c'è tanta roba insomma robe che veramente con delle competenze minime si vedrebbero e non li hanno visti su un romanzo che è stato creato e spinto fin da inizio e progettato per essere un best seller con vendite internazionali eccetera eccetera ok e anche su quelli per dire il lavoro di una grande casa editrice che sta progettando un best seller o sta lanciando come best seller quel lavoro è non controllo neanche 5 minuti su google oltre al fatto che se sei statunitense quelle cose fanno parte anche della tua cultura perché sei invaso dai russi appunto la russa è fortissima ok sarebbe come se in Italia fai un romanzo ok un romanzo dove a un certo punto si parla che ne so di pizza e tu sostieni che la pizza tradizionale a Napoli è un impasto di frumento e segale che viene fritto a immersione e poi spalmato di ketchup quello è il livello ok signori perfetto io è apparso Andrea Butini ma è scomparso di nuovo ho tentato di aggiungerlo ma gli è morta la connessione all'ingresso quindi in attesa che lui torni a parlarci di cose belle sperando che sia fattibile se no rimanderemo questa live se non si può fa nel caso si rimandrà live se vediamo che le cose non ripartono per quando ho finito gli argomenti che posso portare da solo vi ricordo che Andrea Butini sarà disponibile sarà disponibile il 2 novembre sono andando a memoria perché in teoria dovevo dirvelo voi quindi non me lo ricordo a Lucca il 2 novembre avrà la presentazione dell'occhio del gufo non ricordo dove penso che se andate sul sito del lucca comics trovate le indicazioni il 2 novembre da qualche parte o comunque sull'account Instagram di Butini è indicato anzi magari guardo io e ve lo dico nella speranza che nel frattempo il temporale salvi Butini dalla furia bla 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 questa roba qui vi dico subito quando è l'incontro con Andrea Butini sto guardando un culo signori è molto importante io guardo culi su Instagram o conigli alternativamente o i post di Butini ma nell'ordine perfisco i conigli allora o i culi o i post di Butini ho finito tutto allora 2 novembre 2023 la nuova voce dark fantasy italiano presentazione libro d'esordio dell'autore Andrea Butini l'occhio del gufo location essay 15 salone del vescovado 2 novembre alle 16 Butini è tornato mi andrà via sicuramente c'è scoppiato il diluvio universale mi va via la linea nessun problema ho spiegato quando hai l'incontro il 2 novembre una persona ha fatto una domanda sull'editing interna e casetrice e gli agenti ho spiegato come funziona negli Stati Uniti ciò che non funziona più che non c'è più e ho spiegato che per tradizione non è mai esistito in Italia e anche negli Stati Uniti è morto perché avevano dubbi del tipo ma ti hanno aiutato con la struttura ma che cosa hai fatto no hai fatto tutto di testa tua perché sei tu che hai avuto migliorare il libro quindi torniamo alla questione della prima del miglioramento del libro torniamo alla questione del come ti sei presentato allora la faccio breve perché probabilmente mi si ristacca tutto di nuovo avevo provato a presentarlo di persona a una casa editrice di cui non faccio il nome non mi hanno assolutamente considerato di persona ti hanno anche trattato in modo un po' maleducato se mi ricordo sì molto sbrigativo sì sì ed era una casa che pubblica regolarmente fantasy non pensate che è andato da uno che fa soltanto circlopedia dell'ingegnere sì comunque ovviamente col senno di poi capisco che in sede di fiera non è che si può andare a una casa editrice e pretendere di dargli un malloppo eccetera eccetera quindi capito dal mio errore ho cercato agenzie letterarie e ho mandato una mail spiegando a chi si rivolgeva il progetto quali erano gli autori di riferimento a cui poteva essere accostato quindi quale potrebbe essere la fascia di pubblico interessata a questo tipo di storia e ovviamente in allegato sinossi e manoscritto mi hanno risposto dopo poco che erano interessati e poi da lì da cosa nasce cosa a contratto e interesse da parte di Oscar Bolt e Mondadori poi mi hanno chiesto anche il secondo e il terzo per leggerli ovviamente per vedere dove andava a parare la storia e quindi lì ho capito che le cose si facevano serie e lì è stato torniamo torniamo alla presentazione però diamo più dettagli perché così rispondiamo anche Lorenzo perché gli ho spiegato senza fare i nomi che poi ne parliamo nel dettaglio quel problema di quel libro col Samovarra merda il che va se sbagliato tutte quelle robe insulte alla cultura russa continui verificabili 5 minuti su Google e non verificate niente dall'autrice né dagli editor né niente allora io gli risponderei che quello che conta visto che come detto le case editrici tra virgolette vendono libri ma dentro contengono normali impiegati che venderebbero la carta igienica o le scarpe o i vestiti di lusso non gliene frega un cavolo di libri è loro sono impiegati e gli edit e i cosiddetti redattori editoriali sono dirigenti quindi i manager che sono lì potrebbero fare un altro lavoro non mi interessano particolarmente i libri di solito quindi la questione di un libro è la sua commerciabilità e quindi entriamo nel dettaglio tanto penso che non sia un segreto a nascondere dire che cosa hai scritto per far invogliare interesse del tuo libro come dire sta autrice che ha sbagliato tutto della cultura russa e i russi sono incazzatissimi con lei negli Stati Uniti per questa cosa la detestano e nonostante questo l'hanno pubblicata come se ne fotesse una sega di niente in realtà tutte cose corregibili non l'hanno fatto quindi vuoi dire qualcos'altro interessato la vendibilità ad esempio tu come hai fatto a proporre il tuo libro non come una minchiata invendibile tipo questa è la mia storia corale che sogno da quando giocava D&D alle medie alle superiori e ci ho messo dentro tutti i personaggi perché poi mio zio mi ha detto tutta merda che non frega a nessuno tu invece a terra terra in pocheriche hai detto cosa? a terra terra in pocheriche ho detto quali sono i punti forti secondo me del romanzo ovvero senza entrare nello spoiler potrebbe interessare alle persone che cercano certe ambientazioni certe tematiche un sistema magico fatto in questo modo quindi hai detto che è un dark fantasy molto cubo esatto molto violento hai usato c'è molta violenza avevi detto anche grimdark o l'avevi lasciato sottinteso? no l'avevo lasciato sottinteso sottinteso ma tanto si capiva dal concetto sì no allora io mi definisco più dark fantasy grimdark secondo me è un altro tipo di romanzi poi ovviamente perché altro è un tono esatto grimdark tono grimdark tono grimdark ci siamo cioè la moralità grigia dei personaggi c'è ma di solito se lo definisci grimdark loro pensano ok questo è un altro che vuole fare Abercrombie o questo è un altro che vuole fare Martin invece non volevo fare né Abercrombie né Martin però li avevi inseriti come riferimenti come riferimenti per farmi capire e per delineare un tipo di pubblico cioè le ho detto potrebbe interessare alle persone che leggono Abercrombie Martin ma anche Sanderson Gene Wolfe Lovecraft e ve li scorrendo ok e poi hai segnalato soprattutto un'altra cosa di quelle che sono adesso non sono in vendita da sempre ma se uno va in libreria trova valanghe di volumi additto all'edizione deluxe con tutte le polemiche legate ai problemi di impaginazione ovvero Berserk esatto esatto sì anche il lettore di Berserk ma come anche gli ho segnalato potrebbe interessare anche visto che ultimamente era uscito anche come si chiama Jay Kristoff ah giusto sì Nevernight cos'è? che non ha nulla a che fare con Nevernight ma era per fargli intendere che comunque in Nevernight c'era una scena di violenza e quindi anche qui ci sono è uscito di recente era uscito poco in quel periodo lì e quindi non stavo a proporre una cosa che si rifaceva ad Abercrombie a Martin che era uscito ancora prima insomma quindi notate notate cosa ha proposto ha fatto notare uno le somiglianze perché devono capire più o meno a cosa poi considerate anche che magari lei e l'agente quindi immaginate la persona X dipendente dell'agenzia Y in questo caso la tua agenzia è lo vuoi dire PNLA perfetto quindi Nicolazzini che ha vari esatto per giorno Nicolazzini che sotto ha che è talto è uno dei più grandi in Italia o il più grande addirittura in Italia che al di sotto ha ovviamente vari tra virgolette figure che si interfacciano con gli scrittori che fanno da gente che sono il contatto vero e proprio queste figure magari non è che li conoscono esattamente gli servono dei riferimenti magari non sono neanche appassionati di fantasy ti becca qualcuno che ha bisogno di capire cos'è deve dire ok tu mi hai detto che è un dark fantasy fino a qui magari ci arrivo cerco su google capisco capisco anche a senso che tipo di dark fantasy cioè ce ne sono diversi esatto però a senso si capisce esatto poi tu gli hai dato i riferimenti che diventa ok mi hai detto che non mi fa musica che ho già sentito perché uno è del mestiere li ha sentiti a meno che non faccia soltanto romanzi rosa o thriller storici o fa le ritraduzioni dei classici russi a un certo punto li avrà sentiti soprattutto l'intelligenza di butini è stato non solo indicare classici di riferimento che possano capire Lovecraft non è una citazione sbagliata visto certi elementi che vi sono dentro idem la visione del mondo una certa visione negativa del mondo da dark fantasy in realtà che dà non è sbagliato citare Berserk anzi soprattutto per chi si ricorda una certa tavola presente nella primissima versione di Berserk e poi tolta perché spoilerava il senso dell'universo in Berserk ok signori sono tutti riferimenti che non solo sono onesti e corretti ma sono anche chiari in più Berserk vende da dio ed è famoso per quello e se uno dice se uno deve spiegare a qualcuno che cos'è un dark fantasy dici Berserk capisce ah ok tipo Berserk poi riferimenti che vendono tantissimo facilmente noti George Martin Abercrombie ma soprattutto riferimenti di che stanno vendendo in quel momento che fanno capire sia che l'autore ha il pezzo sul catalogo quindi attento anche all'aspetto commerciale o comunque appassionato e sa cosa vende e quindi un mix di riferimenti comprensibili riferimenti che adesso vendono e ovviamente riferimenti che siano sempre onesti ok quindi non metto un riferimento a cazzo non è che se voi vi presentate con un remake del Signore di Anelli e dite che i riferimenti sono i promessi sposi in particolare la prima versione non la quarantana e poi il vostro riferimento sulle poesie di Ungaretti e no cioè no vi asfaltano di mazzate e vi sputano un occhio ecco quindi una presentazione intelligente votata a che cosa come detto prima il fatto che la commerciabilità perché alla gente interessa piazzare libri per nell'interesse dell'autore dargli soprattutto non tanto royalties più altre ma un anticipo più alto in modo da prendere su una percentuale adesso e non sull'ipotesi futura di vendite più alte possibili sì ricordatevi ricordatevi che comunque quando presentate il libro all'agenzia voi glielo state vendendo quindi glielo ha venduto bene insomma e tutte queste cose stavano nella tua diciamo mail di presentazione giusto chiede Vittoria sì sì nella mail ora dette in maniera veramente stringata non così così lunghe come magari l'ho dette io giusto una mail di quattro righe massimo della serie ciao sono Mario Rossi vivo qui ho 30 anni vi presento questo progetto e descrizione del progetto poi ovviamente sinossi in allegato e manoscritto in allegato esatto questa è una cosa tra l'altro di cui parlavo anche all'epoca dell'advento e marketing quelle dello scrittore ribelle cosiddetta del fatto che è utile avere magari una figura un'immagine qua su un canale youtube un qualcosa inerente al libro cioè una cosa è presentarsi dicendo solo tra i detali mi occupo di divulgazione in ambito della storia medievale curiosità di storia medievale e folklore ho un pubblico di 10.000 20.000 50.000 persone e questo romanzo è un rosa puntato a un pubblico di giovani ragazze a cui piacciono gli anime to lovers non c'entra un cazzo mentre invece tu stai portando magari un dark fantasy in stile la stripa delle ossa una cosa così c'entra quindi quando fate la vostra presentazione di poche righe come dice Andrea rendete l'attinente cioè cosa rende vendibile e attinente il libro se tu sei un medico chirurgo e il tuo libro parla di guerra e in particolare parla di un ospedale da campo è attinente se tu di lavoro fai l'avvocato divorzista forse non serve neanche dirlo di piuttosto sono tal dettagli e vivo a Genova e poi parli il romanzo in due righe metti riferimenti come ho detto prima eccetera come ho fatto io l'aspetto biografico come ne parlavo anche ancora nel 2020 è rilevante o forse in consulenza privata ho fatto un sacco di consulenza privata a gente che poi ha pubblicato o picciava cose eccetera se è rilevante col romanzo perché alla fine è quella la vendibilità del romanzo e può aiutare la vendibilità se voi siete esperti di storia avete un canale di storia medievale o altre cose stile Lorenzo Manara se fate un rosa non lo so può essere magari utile per la vendita qualcos'altro eccetera eccetera se fate un romanzo di fantascienza può essere utile che siete un ingegnere aerospaziale o un fisico ma se le cose non si ingroppano tra di loro tacetele perché è giusto sarebbe una riga in più che allontana la lettura perché ricordate che gli agenti e le figure che si interfacciano nell'agenzia chiamate la gente come volete è lì che si riceve valanghe di proposta al giorno non ha tempo magari lui adesso ha cinque minuti cinque minuti prima di una call con un autore incazzato perché è successo qualcosa oppure per piazzare un romanzo per qualcosa a cinque minuti apre la vostra mail è un papiro la chiude forse non la riapre più apre la vostra mail sono tre righe non solo la legge fino in fondo dice a cavolo interessante ma magari va lì mette i tag delle mail e si segna da ricontattare o approfondire o comunque a fine incontro se lo ricorda compatti signori sono lavoratori pensate a voi se ricevete mail giganti dai vostri fornitori dai vostri clienti e vi fanno girare le palle benissimo prima cosa lo fanno girare anche a loro dovete vendergli il prodotto presentare perché è interessante perché è commerciabile perché loro fanno contratti per fare soldi non sono lì per promuovere cose invendibili perché voi avete l'idea che i romanzi rosa ambientati su Marte che parlano di astrofisici siano la nuova the next big thing no mi frega niente mi interessa la vendibilità ok signori è un po' triste ma altrimenti le librerie chiuderebbero tra l'altro se di me non vendessero ok era per chiarire scusa Buti scusa Andrea se ti ho sequestrato tempo ma era per chiarire questa cosa fargli capire oh no l'ho rifrizzato io ho rubato troppo tempo ok signori aspettiamo che ritorni l'importante è che abbiate capito il concetto adesso attendiamo che ritorni io vedo se avete domande a cui posso rispondere io per conto suo abbiamo fatto apposto un incontro in modo da essere coordinati in caso di guai e disconnessioni allora prendetelo sempre per le pinze dovete considerare che nelle agenzie nelle case editrici vi interfacciate con persone che sono lettori normali non hanno particolari competenze il war building per cosa interessa interessa per la vendibilità del romanzo quindi se il tuo elemento di war building è interessante in sé perché aiuta a vendere il romanzo perché ti fa interrogare su cosa accadrebbe se tutte cose che ho spiegato dettagliatamente in consulenza con i miei autori quando parlavamo di pitch ricordatevi non so tra i miei corsici c'è Luca Marucci che ha vinto non mi ricordo se la prima o la seconda edizione di Pichinadu di Akron Books proprio grazie alla consulenza fatta dato contenuti che a breve verranno approfonditi nel corso avanzato perché so che vi interessano e vi voglio aiutare sempre di più ad interfacciarvi correttamente con editori e case editrici che anche il motivo dei pochi video e delle scarse attività di questi mesi è che sto lavorando di più sul lato del aiutarvi ad arrivare alla grande pubblicazione o a una pubblicazione qualsiasi quella che vi pare però arrivarci darvi la mentalità darvi le possibilità di arrivarci sapere come fare eccetera eccetera ok signori quindi Warbinding certo interessa nei limiti del ecco qua è tornato è un dramma stasera quindi ti ridò subito la palla tanto la risposta più o meno lodata la riprendiamo dopo magari o comunque più o meno lodata torniamo a te ti ho sequestrato tempo per spiegare tutta la questione quindi tu ti sei presentato in un certo modo ti hanno accettato Nicolazzini l'agenzia ovviamente di Per Giorgio Nicolazzini ti ha piazzato a Mondadori e tu a quel punto è successo che cosa? e lì è successo che ho detto ok se la cosa è seria è successo davvero il miracolo non posso sfigurare perché comunque volevo veramente dimostrare di poter arrivare lì per merito davvero cioè nel senso volevo dimostrare come faccio a spiegarmi che volevo come si dice non volevi fare una figua del merda esatto non volevo dire parolacce però sì esatto non volevo fare una figua del merda cioè perché comunque la pressione è tanta di essere un italiano arrivato a pubblicare a Mondadori dopo tantissimo tempo e poi magari per un motivo o per un altro le persone ti stroncano no? quindi avevo tanta pressione addosso tanta responsabilità e quindi volevo dimostrare che la storia vale la scrittura vale volevo dimostrare di valere e quindi ho detto ok le cose si fanno serie mi devo mettere a studiare ancora di più e quindi a migliorare e migliorare e migliorare ancora di più soprattutto in ottica del secondo e del terzo e anche in fase di riscrittura del primo perché lo volevo rendere ancora migliore prima che che uscissero e qui ci possiamo collegare a una domanda precedente a cui non potevamo rispondere prima che a tutti gli effetti l'avrebbero pubblicato già in quella prima versione con un po' di lavoro di editing minimo che è più una correzione di bozze potenziata ma l'avrebbero già pubblicato così sì 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 il lavoro di riscrittura che ho fatto è stato completo quindi io è come se avessi scritto in realtà quattro libri cioè il primo l'ho completamente riscritto non nella sceneggiatura cioè l'intreccio è sempre lo stesso ma lo stile di scrittura è completamente cambiato rispetto a come era prima perché io ho scritto il primo poi sempre studiando e migliorando ho scritto il secondo poi ho scritto il terzo e poi sono ripartito ho riscritto il primo e ho parzialmente riscritto un po' anche il secondo perfetto ottimo ottimo che tanto il secondo tu l'hai affrontato che già stavi studiando con i miei percorsi giusto il secondo sì 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 già a metà del secondo ero in fase di studio perfetto quindi giusto per chiarire il percorso come è stato con l'idea commerciabile è uno stile di scrittura buono ma secondo l'autore una merda secondo me meglio del 90% delle cose in libreria ok sicuramente era peggio di come è adesso quindi se vi piace lo stile di adesso quello precedente era peggiore insomma secondo me sì no era peggiore non era una catastro però solo peggiore con insomma un stile di scrittura buono non faceva schifo era abbastanza buono ecco e non sarebbe stato un romanzo ignobile ecco per lì una volta pubblicato anche quella prima versione sarebbe stato un signor romanzo che dice cavolo è scritto meglio di quelli di Giorgio Martin è scritto meglio di tanta roba tanta roba anche che leggo senza problemi perché io la roba di Giorgio Martin mi sono sparata tutta addiettura i primi tre romanzi in versione italiana hanno sette me sono letti che do tre o quattro volte di fila insomma un livello insomma che era molto buono ma soprattutto la commerciabilità ha influito poi è stato all'autore a Butini dire no io voglio fare di più perché è importante il discorso che vi ha fatto su non smerdarsi perché in Italia in effetti dovete tenere conto di una cosa ora cose di cui abbiamo già parlato in mille altri posti al tempo del blog di Gamberi Fantasy che ho frequentato come pubblico oppure il subagliente librario che gestivo io nei commenti in vari posti l'editoria italiana è piccola chiaro? quando voi vedete queste mega collane che magari pubblicano il 50% del fantasy italiano e magari nell'insieme il 90% del fantasy scusate in Italia non in italiano è pubblicato da Oscar fantastica più le collane di Fanucci più e ci metti assieme e tu guarda tutte le collane ognuna di quelle collane magari è un editor potrebbe anche essere un capo un direttore di collana ok? potrebbe anche avere sotto due o tre collane in un calderone tu fai la somma quante persone vengono in Italia che magari controllano tutto il settore fantasy magari tre o quattro e poi ci sono i piccoli editori cioè sono veramente poche persone poche persone sobbissate di lavoro piene di problemi e di casini che magari sono arrivate a gestire una collana sul fantasy ma loro non gli fregava niente magari venivano dal thriller venivano da altre cose perché nessuno si specializza in fantasy Italia non c'erano i percorsi laurea come che ne so roba sulla fantascienza che si parlava anni fa negli Stati Uniti o in Inghilterra loro arrivano che magari arrivano in fissa quei romanzi storici che vorrebbero trattare romanzi storici di autori stranieri e gli viene affidata che ne so perché il precedente direttore ha trovato un posto di lavoro migliore magari anche un'azienda diversa che non fa neanche libri perché sono manager comunque magari è finito un'azienda che fa tubi di stufe ok e loro si trovano affibbiato magari il destino della collana fantasy e fantascienza di una casa editrice magari grande può succedere signori ok e quindi queste persone che hanno chissà quali competenze vanno considerate come lettori medi di solito ok quindi sei tu come autore che devi avere le competenze di scrittura di progettazione avere anche il polso della questione per proporre romanzi che siano adatti al pubblico e quindi risagiscono alle esigenze di un pubblico che è molto più sofisticato dei direttori delle collane perché sono veri appassionati tante volte o comunque gente che legge quando invece capita magari il direttore è arrivato e non ha mai letto un fantasy nella sua vita gli viene affibbiato una collana e si trova lì che ha un'esperienza di un anno col fantasy quanto ti propone il tuo romanzo che ne so non è questo il caso però per far capire come funziona ok e quindi un ambiente dove questi direttori giustamente si affidano come possono e tante volte si affidano ad autori di cui possono fidarsi è per questo perché vedete tante volte i stessi nomi girare o perché dicono ok allora io non so chi pubblicare arriva sta roba italiana non ci capisco niente a me sembrano delle boiate anche perché tante volte le proposte sono delle boiate e Butini ce l'ha fatta perché la sua proposta era buona il 99% sono boiate e allora dicono prendo i diritti di una cosa estera perché io non so come scegliere e se lo propongo magari i libri non lo vogliono eccetera quindi quando uno viene pubblicato come italiano in un settore che al 99% è fatto di romanzi esteri perché i libri sono più propensi a portare quelli perché gli stessi direttori editoriali non sanno come scegliere i romanzi e non sono così tanto esperti della nicchia eccetera è normale che la prima cosa che il pubblico pensi è si pubblica per favoritismi per nipotismo per conoscenze ecco ma è normale che lo pensi cioè se io domani devo scegliere tra guardare dieci romanzi di cui non so niente per scegliere un candidato per occupare i miei slot annuali di Vaporteppa di solito sono due ma mi sto chiedendo un terzo sono anche un books oppure per che voglio provare a candidarlo con una casa editrice diversa come sto lavorando adesso io tra dieci sconosciuti che mi farebbero perdere tempo e poi bisogna fare la struttura minimo ci devo spendere 15-20 ore e poi magari un flop o mi arriva Cresciz di Venezia Metal o mi arriva Lorenzo Manara che ha già due romanzi fatti mi arriva gente esperta che mi dice guarda ho saputo che a te serve un Green Dark perché vuoi provare a candidarlo con un certo editore oppure un romanzo di fantascienza un Rosa sto spingendo un sacco il mio autore a scrivere Rosa eccetera mi arriva che c'è il progetto secondo voi io favorisco l'autore che mi dà già garanzie di scrivere da Dio che ho formato perfettamente con cui so che si lavora benissimo in fretta eccetera o vado a buttare 200 ore della mia vita con dieci sconosciuti e forse uno di questi porterà a termine un romanzo applicatelo in scala 40 volte più grande a queste figure è ovvio che appena possibile vanno con chi già conoscono e quindi è normale che poi gli outsider come Andrea sia ovvio pensare mio Dio è nipote di un arcivesco che cazzo ne so avrei una connessione migliore no vabbè quella hai scelto di vedere un posto sfigato però mi piace quindi è normale che lui abbia detto no adesso io mi devo concentrare sullo stile non posso trovarmi che scrivo un libro il livello di qualità e di scrittura è lo stesso magari dei grandi di nome del fantasy e a questo punto dicono scusa un attimo perché l'hanno pubblicato perché hanno rischiato ecco e subito ci sarebbe la polemica ecco quindi se non volete suicidarvi signori soprattutto se non siete ancora di più se siete raccomandati che diventa che dovete nascondere la cosa ma se non lo siete e se Buttini fosse raccomandato l'avreste visto alla Rai l'avreste visto in programmi tv vari l'avreste visto ovunque non un lancio normale da romanzo normale ecco avreste avuto i cartonati giganti in libreria o comunque in libreria sta andando bene diciamolo Andrea parla di come sta andando in libreria così togliamo sta cosa scusa sì no sta andando bene ma anche anche su Amazon in realtà sta andando benissimo però anche in libreria per esempio volta quando è stata una decina di giorni fa mi hanno detto che mi hanno scritto alcune persone dicendomi io l'ho ordinato però mi hanno detto che c'è da aspettare perché insomma i riordini sono un po' intesati insomma c'è stato un po' di interesse anche nelle persone che lo ordinavano in libreria e c'è stato le librerie che lo riordinavano quindi sono contento insomma il nostro contatto interno alla Feltrinelli alla Libria Feltrinelli ci ha raccontato che attualmente tipo io ho ordinato quattro copie perché volevo fare dei regali le quattro copie non sono ancora arrivate ne è arrivata una sola e mi ha spiegato che i riordini delle librerie sono stati tali che attualmente messaggerie il distributore non può fornire copie attualmente dovranno aspettare vari giri di copie rifornimenti cose varie per averne ma attualmente per via le librerie hanno richiesto tutte le copie che messaggerie poteva distribuire che è un ottimo segnale vuol dire che sta vendendo bene che c'è un ottimo ricambio che questo esperimento questo rischio di portare un autore dark fantasy italiano sta venendo ripagato al pubblico tant'è che vi faccio vedere adesso e poi ridò la palla ad andrea vi faccio vedere guardate bucchio del gufo questa è la pagina amazon abbiamo 16 recensioni tutte voto 5 questa è un'anomalia in realtà non è normale che sia tutto voto 5 qualunque voto 4 e mezzo in su un voce eccellente signori però recensioni entusiaste qui c'è la descrizione del libro godete verrà molto bella e recensioni entusiaste tanto è uscito il 10 ottobre signori quindi è uscito da 20 giorni 3 settimane 20 giorni e recensioni entusiaste tante per fare un paragone il titolo precedente di Oscar volto in ambito fantasy credo fosse stato Legend of Lattes io ho il cartaceo che è molto bello non parlo adesso dell'interno che è un po' meno bello del cartaceo dell'esterno e quello ha 12 recensioni mi sembra con media voto 4,2 o 4,1 non ricordo cioè sta andando molto bene sui lettori di nicchia sui lettori che vogliono leggere dark fantasy sta andando molto bene sia in libreria e quanto pare anche su amazon a quanto si vede da recensioni eccetera allora ti chiedevano sono contento infatti sta andando molto bene sono contento perché comunque la cosa bella secondo me per un autore insomma è che non sono tanto le recensioni che vengono messe su amazon o anche su goodreads ma è anche proprio le persone che ti scrivono in privato e ti dicono bello mi è piaciuto un sacco quando esce il secondo cioè fa veramente piacere dopo tante energie investite tanto studio tante notti passate a scrivere ora questa è una live dove penso saremo 90% persone interessate alla scrittura quindi è bello cioè continuate impegnatevi perché comunque quando riceverete questi messaggi qui riempiono davvero il cuore bene bene Bibi ti chiede questo la casettrice è d'accordo ad aspettare per la riscrittura del primo volume oppure c'è stata la riscrittura proprio perché c'era da attendere comunque prima della pubblicazione c'era comunque da attendere perché comunque la pubblicazione del primo volume mi era stata data per ottobre appunto ma io il terzo lo avevo finito già a inizio anno e quindi prima di iniziare l'editing del primo avevo tutto il tempo per riscrivere appunto il primo e l'ho riscritto in qualche mese mettendomi sotto come un treno insomma l'ho riscritto quindi c'era tempo rispondo al volo a una domanda di Lorenzo e poi torniamo alla tua storia di pubblicazione sì allora portai gli stranieri anche perché si va a colpo sicuro ve l'ho spiegato tra l'altro nelle lezioni dello scrittore ribelle risveglio dello scrittore che sono un corso di otto ore che do in omaggio a tutti i clienti del corso avanzato gli parla proprio di miti di editoria a base di editoria come funzionano varie cose cose sui contratti un sacco di robe varie e parla anche di certi miti incluso il mito dell'esterofilia che è un mito nel senso che l'esterofilia non è dei lettori però può essere degli editori in un certo senso ma non perché loro vogliano ma per colpa dei librai perché perché i libri che arrivano in libreria sono preordinati dai librai se il libraio pensa che un libro non possa vendere poi dici guarda ho questo bellissimo libro autori italiani no scusa io non ho uno storico di autori italiani che vendono questa roba a parte i grandi nomi che sappiamo tutti che può essere sopermondatori viciatroisi o robe così io il tuo autore italiano che porta questa opera non mi interessa tu mi fai un libro che poi magari fa schifo di un autore famoso inglese quello mi fido perché so che gli stranieri come se gli stranieri fossero un calderone unico no che mettessimo tutto gli stranieri vanno questo però l'esterofilia tra virgolette ok chi vi dice che esiste nei lettori sta mentendo ed è un demente catatonico si dice queste cose o sta mentendo o non capisce quello che volete e sono in tanti che lo dicono si dice tipo dagli anni settanta in italia scusa esterofilia ho dettagliato con una lezione con le prove e anche i test di verifica potete fare voi stessi per misurare questa cosa nello scrittore ribelle risveglio dello scrittore perché il mio corsista avanzato negli editori non esiste per ovvi motivi scusate fate fate immaginate questo siete un editore potete avere Andrea Butini che vi costa non so x migliaia di euro di anticipo ok x migliaia di euro non vi faccio non so i suoi numeri e non deve non deve dirli e non può dirli ma tipicamente col grande editore ti danno diciamo 3000 euro al primo romanzo tipico questo lo sanno tutti più o meno ok poi si può ricevere di più dipende la gente tipicamente è pensato per alzarti quell'anticipo discorsi che sappiamo abbiamo già fatto all'epoca della live su editoria dell'anticipo tipico con grande editore cose varie secondo voi vuole pagare che ne so 3000 euro a Carlone Sarcazzi col suo romanzo Dark Fantasy o vuole pagare se le vendite fossero le stesse vuole pagare 40.000 euro di anticipo a Carl Sarcazzi autore anglosassone di pregio più 10.000 euro 15.000 euro di traduzione ok siamo magari a 50.000 euro più tutti gli altri costi normali che ha secondo voi tra pagare 3000 euro a Carlone Sarcazzi e vendere magari tot copie o pagarne 50.000 e vendere le stesse copie cosa preferirebbe? preferirebbe risparmiare andare con l'italiano il problema è che appunto gli editori vorrebbero anche pubblicare italiani ma non è colpa dei editori sono i librai che sono abituati all'idea del gli stranieri vendono gli italiani no ok perché gli stranieri vendono gli italiani no? perché lo storico delle vendite dice che gli stranieri vendono gli italiani e perché lo dice? beh perché abbiamo il 99% capite? è una roba letteralmente assurda di ora è stata in parte favorita da quando con il boom del fantasy italiano nel 2005 6, 7, 8, 9, 10 boom innescato anche dall'esperimento immondadori di Licia Truisi eccetera altri editori soprattutto altri editori hanno portato roba invendibile che non ha venduto niente che faceva schifo i librai hanno creato questa questa correlazione banale semplice ma che nella loro testa funziona che era italiani scrivono di merda vendono niente italiani schifo e per anni i librai hanno portato con pile di libri autori italiani che facevano schifo e non vendevano niente dopo anni è diventato che si non abbiamo capito che gli italiani evidentemente avranno un cromosoma in più quando si tratta di scrivere fantasy ok il problema è che questo schifo va a colpire tutti non importa che voi siate la diciassettenne che viene pubblicata dal grande editore solo per dire ho pubblicato l'autrice più giovane possibile cosa è successo davvero c'erano grandi editori che dicevano abbiamo firmato il contratto quando aveva 15 anni come vanto ok cioè quel livello di trash poi ti arriva il signore magari anche non giovanissimo come Andrea Butini che semplicemente si è impegnato ha portato la sua roba e si becca lo stesso stigma sociale che il libraio ha imparato ad applicare i titoli perché l'ha visto con le mancate vendite ok dieci anni prima su questi abomini che venivano buttati fuori senza né arte né parte da editori che si stavano comportando come degli squali ma perché non ne sapevano niente si odia un fantasy i fantasy vendono quindi venderà non capivano e si sono sabotati distruggendo il fantasy in Italia ok è anche per questo che è importante che un percorso come quello di Andrea e questi esperimenti quindi che Mondador abbia avuto il coraggio di provare a portare un dark fantasy italiano è importante perché è difficile piazzare ok bene spero che per Lorenzo abbia si è stato sufficio poi lo scetticismo è tanto insomma non sono solo i bravi secondo me sono anche un po' i lettori che parecchi leggono autori italiani alcuni sono sempre un po' scettici quelli ci sono sempre quello scetticismo però è uno scetticismo legato al fatto delle brutte esperienze per esse esatto sì sì certo tant'è che a livello di vendita per esempio quando vai non sul pubblico magari più di massa che non sa ma sugli appassionati addirittura gli autori italiani vendono molto di più degli stranieri basta andare a una fiera qualsiasi con i piccoli editori e lo vedi quanto l'autore italiano è una leva di vendita rispetto allo straniero certo che con la grande editoria può succedere il problema esatto io per primo adesso ultimamente da diverso tempo a questa parte compro molti di più autori italiani che autori esteri perché ultimamente mi sembra che scrivano meglio sì c'è stato un miglioramento in generale in tutta editoria ad esempio guardando la pubblicazione fantastica che fa ad esempio Oscar Mondadori o altri il livello che c'è adesso in libreria era inimmaginabile nel 2006-2007 cioè c'è molta più fantasia delle storie molta più roba mediamente scritta molto meglio ma è proprio migliorato tutto migliorato tutto tutto proprio tutto tutto quanto allora torniamo alla tua esperienza visto che abbiamo risposto a Lorenzo che aveva questo dubbio siamo arrivati a quando hai deciso che non volevi fare una figua di merda che non volevi trovarti che dicessi se scrivi a cazzo avrà avuto avrà il parente che è lo zio cardinale eccetera eccetera e hai deciso che dovevi imparare a scrivere a questo punto che cosa hai fatto? a questo punto ho cercato online insomma formatori dei corsi che facessero per me insomma ho trovato il tuo ho trovato anche quello di Libia insomma si può dire ho trovato anche altri a quel punto se c'era da investire sulla mia formazione io investo cioè nel senso la scrittura mi piace quindi perché no quindi ho iniziato a fare i corsi e da lì ho messo insieme i pezzettini del puzzle che già avevo però mi mancava quell'ordine si diceva prima che i manuali di scrittura della insomma l'arco di trasformazione eccetera eccetera non ti danno cioè ti danno i pezzettini del puzzle ma non ti danno la visione insieme quindi grazie insomma a a questi corsi di formazione ho costruito la base da cui ripartire e lì ho cominciato ho visto un miglioramento nella scrittura già il terzo volume l'ho scritto con il modo che volevo fosse scritto focalizzandomi sull'interiorità dei personaggi cioè sui far vivere l'esperienza di lettura dall'interno dei personaggi è stata quella la chiave la chiave di volta insomma cioè pensare al fatto che te lettore devi leggere ogni punto di vista come se tu fossi all'interno di quel punto di vista e veder le cose come le sta vedendo lui semplificando lo stile renderlo fluido insomma molto scorrevole quella è la chiave di volta che poi mi ha fatto scattare quando sono andato a rileggere il primo e parte del secondo e mi ha fatto dire ok qui c'è da riscrivere tutto e lì ho lavorato e poi piano piano ho migliorato devo ancora migliorare cioè mi rendo conto poi te lo sai insomma nei nostri scambi di di capitoli nel lavoro che abbiamo fatto insieme mi hai martellato tantissimo e ancora devo migliorare tanto oddio in realtà però la direzione è quella in realtà ogni volta mi dice oh mio dio questo capitolo è pieno di problemi e cioè perché abbiamo lavorato direttamente sul primo e secondo romanzo e ogni volta ti spondo che cazzo stia dicendo cioè letteralmente mi presenta le cose come se fosse un disastro e tipicamente sono i capitoli migliori no è una cosa assurda veramente io c'ho mi aveva presentato il secondo libro tipo ci sarà molto più da lavorare perché l'ho scritto mentre stavo ancora studiando i tuoi corsi e facevamo le consulenze e mentre il primo l'ho riscritto da zero minchia secondo libro è stato molto più facile lavorare del primo cioè questa cosa che ogni volta che mi dice che c'è un problema che è una catastrofi io tipicamente mi trovo il capitolo e mi metto un commento uno quindi no io questa cosa che devi migliorare molto non la posso confermare non è vera perché quella che ne so non è vera secondo me sì secondo me posso fare meglio soprattutto nel primo ho notato alcune cose anche alcuni commenti di persone che mi hanno scritto bello sì però ci sono alcune piccolezze e gli ho ragione cioè nel senso in alcune parti magari potevo sfruttire alcune descrizioni ci sono magari qualche frase un po' ridondante insomma è l'esordio dai cioè poi comunque io la vedo sempre come tutta la trilogia è l'esordio perché comunque per me è una storia unica che ho scritto in una fase di temporale molto stretta per me che poi in realtà sono 3-4 anni però tutta di fila quindi è come se avesse scritto una storia unica tutta insieme dal mio punto di vista quindi per me l'esordio è tutta la trilogia per i prossimi lavori spero e voglio fare sicuramente ancora meglio insomma quindi se se già piace questo sono molto contento perché già già vedo margine di miglioramento quindi intanto rispondo a una cosa veloce ricollegandoci al collegamento di prima per dire lo stile buttini addirittura mi ricordo quando ancora non si poteva annunciare il tuo nome per dire chi era l'autore che doveva pubblicare con Mondadori mi avevi passato il primo capitolo come esempio per un mio autore che ha bisogno di un esempio di scrittura in terza persona e ti avevo chiesto dei consigli che tu gli potevi dare dal punto di vista di una persona che aveva studiato la scrittura e aveva tutti gli esempi in prima persona a quei romanzi di Vaporteppa e ha dovuto adattarli usando anche la lezione presente nel corso certo adattarli alla terza con tutte le difficoltà e le cose che mi ricordo che è stato un bel bordello e rispondo al volo perché qui c'è una cosa allora questo anche questa è una cosa falsa tra l'altro dimostrata nella lezione le vendite in realtà non è vero che non sono le stesse non sono le stesse se Librao per esempio degli autori stranieri fa pile di 20 copie ma che so dell'italiano ne mette due o tre è ovvio che se tu fai pile di 20 copie che attirano 10 volte più l'attenzione venderei di più di quello che ne ha due copie ma questa è la cosa del sabotare apposta perché dici credo che non venda quindi genero una profezia autoavverante che garantisce che non venda così posso bias di conferma riconfermarmi che non vende o semplicemente usando un normale software che decida le copie da mettere il software può creare il bias di conferma lui stesso è il motivo che voi non potete avere una procedura che funziona se vi mancano i dati corretti da basi sbagliate vengono ragionamenti sbagliati anche se a livello logico la costruzione del ragionamento è perfetta tant'è che ad esempio Lorenzo se ci pensi guarda da chi sono dominati i thriller italiani i thriller sono dominati dagli italiani romanzi storici italiani che vendono un bordello questo mito tra l'altro un mito di cui parlo soltanto nell'ambito del fantasy perché come se la gente tipo quelli che leggono fantasy o fantascienza non fossero in grado di curvare in libreria gli altri scaffali di rosa ora adesso per fare un esempio vi ricordate 50 sommature di grigio benissimo quando fu 50 sommature nel 2012 forse in Italia è arrivato nel 13 non mi ricordo quando è arrivato in Italia ha venduto così tanto Biblioteca Universale Rizzoli era burro quindi si è Rizzoli fece un esperimento provare a vendere un'autrice italiana nel filone di 50 sommature e fece la trilogia di Rene Cao la trilogia di Rene Cao che ricordiamo non viene da New York come nome cioè sono quei nomi che dice se anche fosse straniera avrebbe cibita come italiana ma comunque italiana mezzo milione di copie mezzo milione di copie ha venduto più di praticamente tutto quello che c'era in libreria anche di autori stranieri quell'anno in cuscita ok quel periodo in cuscita la sua trilogia sono tutte robe che semplicemente per chi ha i dati alla mano o anche semplicemente va in libreria con gli occhi aperti se non ci si ferma al solo fantasy fantascienza è ovvio tant'è che in Italia nessuno ha dei dubbi di poter sfondare diventare magari un bestseller col libro giusto la spinta giusta eccetera nei thriller nei rosa non c'è un dubbio è solo nel fantasy che c'è questa roba ma perché nel fantasy c'è questo circolo vizioso giustamente magari un circolo vizioso infatti come ti sei corretto è un circolo vizioso può succedere poi addirittura i piccoli editori quindi cambiando mercato un piccolo editore magari del libro straniero ti piazza 200 200 300 copie ricordate che oltre metà dei romanzi pubblicati in libreria non superano le tre copie a buona parte non arrivano a 50 copie sono pochi quelli che superano le 200 ecco per esperienza ve lo dico perché lo vedo al banchetto con Akron e simili quando vado i libri degli italiani vendono di più delle cose portate straniere ma molto di più è una roba quando proprio vai terra a terra a fare il confronto e non c'è di mezzo un libraio che mette 20 copie dello straniero due copie dell'italiano ma sei a pari dimensioni l'italiano attira molto di più tra l'altro ve lo ricordo perché attira di più l'italiano per un ovvio motivo che noi ci fidiamo di chi è come noi è il problema che viene spiegato regolarmente che non si potrà mai combattere veramente il razzismo perché il nostro cervello è pensato per delle somiglianze è una differenza di colore ad esempio avere la pelle color marrone perché se hai discendenza africana o averla bianca come tutti i tuoi familiari eccetera non importa quante cazzate puoi dire al cervello quello che vede al cervello è lui è marrone io no lui non è come me punto ci sarà sempre quella cosa ok quindi ad esempio quando tu prendi lo straniero e tu sei italiano hai un maggior elemento di lui è come me con un italiano come te o con una persona che viene dal Galles ovviamente con un italiano come te cioè per chi ha studiato la psicologia della vendita ad esempio i testi di Cialdini è evidente che gli italiani hanno un vantaggio se non ci fosse il problema del quello che è successo nel 2005-2010 fama degli autori italiani distrutta i libri che si sono spaventati dopo aver scommesso sugli italiani eccetera eccetera ma di base perché una formazione nella psicologia anche minima anche soltanto i libri di Robert Cialdini è tutto chiarissimo e tant'è che poi i piccoli editori ve lo possono confermare si vende il doppio il triplo senza problemi ok allora scusa Andrea ti ho rubato ancora spazio per parlare tranquillo di fregnacciate c'è problema allora Moik ha detto una cosa intelligente ma l'esordio con il cognome straniero può esistere ci sono delle problematiche non è detto che ve lo facciano fare anzi probabilmente non ve lo farebbero fare poi ci sono tutti i punti deboli che nell'approccio che insegna dello scrittore ribelle che richiede anche l'uso dei social non sarebbero fattibili un insieme di cose però tecnicamente non è una soluzione stupida in passato molti autori italiani hanno usato pseudonimi stranieri anche autori italiani di cui si sapeva che erano italiani Stefano De Marino oddio Di Marino De Marino Stefano oddio quello è autore thriller famosissimo pubblicato per segretissimo scomparso uno o due anni fa una cosa molto brutta insomma lui aveva vari pseudonimi tutti sapevano che era lui ovviamente perché c'è una nicchia se gli appassionati di quella roba quando scriveva magari certi libri aveva un certo nome quando scrive un altro un altro nome tutti i pseudonimi stranieri ma si sapeva che era lui anche che non si sapesse anche a livello di lettori proprio lo sapevano addirittura tante volte indicavano Stefano De Marino bla 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 con gli pseudonimi di questo quest'altro quest'altro e in base alla tipologia di romanzo tutti in ambito thriller aveva un opzionimo diverso quindi si può fare a colpo d'occhio può anche aiutare può anche essere intelligente se hai tanti tipi di romanzi diversi avere un nome de plume no un nome di penna per ogni tipologia di romanzo ok quindi non è sbagliato però non è una cosa che di solito ti fanno fare l'esordio soprattutto fingere un nome straniero anche per una serie di altri problemi tipo se vai a una presentazione diventa a cazzo ma tu Carphone Clausewitz in realtà sei di Pordenone sì ecco quindi risolto bene Andrea torniamo al tuo esordio torniamo al tuo esordio allora quindi hai deciso di studiare hai fatto vari corsi ti sei trovato particolarmente bene col mio approccio con la scrittura immersiva con quel modo di insegnare comunque anche gli altri corsi che hai fatto ottimi corsi ma ti sei trovato meglio con questo approccio e hai cominciato a fare delle consulenze con me vuoi raccontare qualcosa del lavoro che abbiamo fatto a grandi linee chi va non so sì abbiamo fatto delle consulenze private ora non ricordo esattamente quante però diverse diverse perché comunque ho avevo bisogno di capire bene quali erano i punti su cui dovevo migliorare su cui dovevo lavorare volevo capire quali erano anche i personaggi che avevano dei problemi i punti su cui portare più attenzione eccetera eccetera quindi durante l'incontro abbiamo iniziato a fare un brainstorming di tutti gli archi di trasformazione di ogni personaggio e i personaggi sono tanti nella mia trilogia quindi c'è stato insomma l'hanno preso parecchio tempo ora avevo visto una domanda in cui uno chiedeva non mi ricordo perché qui è sparita nella lista in cui uno chiedeva se è una storia intanto me la ricordo se è una storia corale qual è l'arco di trasformazione cioè di quale personaggio mi sembra era molto in cima e l'arco di trasformazione va tenuto sempre presente per tutti i personaggi all'interno della storia cioè almeno i personaggi principali di base io la vedo così in un mondo tutti i personaggi si trasformano quindi anche i personaggi secondari sono da qualche parte del loro arco di trasformazione ci sono nella mia trilogia più punti di vista sforiamo se non sbaglio i 7-8 ora non mi voglio mettere a contare tutti i personaggi di cui però tutti i personaggi principali di cui seguiamo il punto di vista cioè l'arco di trasformazione completo dalla chiamata dell'azione insomma dall'inizio fino all'esperienza di morte e poi la risoluzione insomma alla fine quelli principali sono 4 gli altri 3 diciamo sono personaggi secondari di cui seguiamo solo un pezzo dell'arco di trasformazione però comunque tutti i personaggi devono cambiare assolutamente quindi c'è stato questo lavoro di dove io spiegavo al duca la mia storia è così la mia storia è questa i personaggi sono questi il personaggio 1 e tutti i vari punti tutti i vari step dell'arco di trasformazione eccetera eccetera personaggio 2 e via discorrendo per ogni personaggio ci ha voluto diverso tempo per vedere che tutto tornasse che tutto filasse e quindi ho usato parecchi incontri poi una volta capito che comunque c'erano quali erano i ritocchi da fare quali erano le cose da sistemare mi sono messo sotto e e poi lui ha deciso di aiutarmi anche con lo stile di scrittura non solo con la parte di sceneggiatura ma anche proprio sulla parte stilistica e e quindi c'è stato tutto un passaggio di di quando io riscrivevo il primo mandavo dei capitoli a lui e lui me li rimandava commentati spiego cos'è successo in pratica primi incontri come detto abbiamo fatto la struttura abbiamo visto quelle cose soprattutto per confermare che andasse bene se non andava bene capire cosa ritoccare con i problemi però che appunto giustamente Andrea voleva essere più fedele possibile all'esatta storia mandata perché quella era stata approvata poi in realtà perché più dentro al settore avete un enorme margine di modifica da quando un libro viene approvato a quando si arriva all'editore non se lo ricorda o non lo sanno varie cose potete toccare un sacco di roba in realtà però giustamente avendo un testo che già andava bene ma infatti non era quello dell'approvazione da parte dell'agenzia o della casa editrice il problema il problema secondo me era più che altro sotto il punto di vista della tempistica perché sapevo già di avere da riscrivere molto per allineare lo stile a quello dell'ultimo volume non volevo mettermi a rielaborare moltissimo anche sotto il punto di vista dell'intreccio perché sarebbe stato un lavoro enorme e quindi ho detto ok sistemiamo giusto quelle cose che sono sistemabili ma non stravolgiamo tutto esatto anche perché non è servito col fatto che abbiamo scoperto che gli archi importanti da seguire erano soltanto alcuni e a tutti gli effetti ci siamo fatti un culo così ma nei primi incontri abbiamo proprio visto uno per uno tutto li abbiamo catalogati abbiamo catalogato qual è un arco eroico quale non lo era con che sfumatura non lo era tutte le differenze abbiamo proprio visto una serie di cosine di cui parleremo in futuro tutte diverse esatto non possiamo mettere in dettaglio ma sono tutti veramente diversi quindi è anche molto interessante questa cosa quando ho visto che alla fine io partivo col presupposto di oh mio dio speriamo non ci sia della roba che veramente è una cacata che non c'entra niente storie campate per aria cose così quando abbiamo visto che andava tutto bene c'è posto infatti cavolo per essere uno che questa roba l'ha fatta soltanto con i manuali dell'audino in pratica e poco più e il mio corso gli ha confermato le cose gli ha permesso di raffinare qualcosina cavolo c'è veramente bravo infatti abbiamo giusto stato giusto attenti a non presentare in modo sbagliato un certo personaggio che appare nel primo libro che poteva apparire presentato in modo un po' troppo sbagliato nella prima versione abbiamo ritoccato qualcosa quella che è sicuramente un aiuto ma non è uno stravolgimento infatti è andata da dio è andata da dio secondo me quindi molto molto bene merito di tanto D&D poi per il resto come ha detto appunto Andrea ogni personaggio in un punto di un'arco di trasformazione ve ne ho parlato di un sacco di volte in video gratuiti ne ho parlato nel corso di 4 ore dedicato corso accelerato dedicato a storie con le storie seriali corso tra l'altro che è nato anche grazie alle esperienze di Andrea voi sapete io corsi non li creo sulla base e li inventiamo cazzate e raccontiamole a qualcuno che sgancia i soldi perché sì e questo è l'approccio del corso medio americano che scono fuori i corsi di ogni cosa con gente che ha letto un libro e 30 dollari di libro diventano 997 dollari di corso e ha le competenze di un libro non funziona così io quando vi presento delle lezioni è perché ci ho lavorato direttamente per anni e quindi in questo caso venivo dall'esperienza di quando cosa pubblica scritta nel mio sito non sto portando nessuna novità ho lavorato alla struttura del secondo e terzo che inizialmente si pensava essere un solo volume di Eternal War con Livio Gambarini mi ha aiutato a progettare la struttura vedere gli archi trasformazione come gestire i punti di vista eccetera e poi lui per motivi di spazio ho potuto separare in due romanzi ho visto il lavoro con Andrea Butini il lavoro con altri autori di cui non posso fare i nomi oppure anche mia analisi personale di saghe fantasy eccetera o anche semplicemente di serie tv come Breaking Bad e altre cose nell'insieme avevo costruito tra lavoro sul campo verifica su fonti diciamo di pregio valide quindi soprattutto serialità televisiva che non testi scritti però andavano bene anche quelli ma soprattutto il lavoro con Butini con la verifica finale la sperimentazione del entrare proprio sulla possibilità del se vogliamo possiamo anche ritoccare un po' o anche tanto in realtà ma non è servito quindi grazie al cielo e lì abbiamo tirato fuori una serie di considerazioni che hanno fatto nascere quelle quattro ore di lezioni per esempio Andrea ha fatto sette otto punti di vista e quattro archi principali diciamo tra virgolette completi tra virgolette poi ci sono delle summature dei discorsi ma non ve li posso fare se non avete letti tre libri quindi se ne riparlerai in futuro eventualmente per i corsisti avanzati ma oggi per esempio tu partiresti con l'idea di fare subito non so quattro punti di vista principali e tre secondari o un lavoro più leggero come faresti? mai più mai più tutti questi punti di vista no quello è stato questa esagerazione è stata data anche dall'inesperienza cioè dalla voglia di dire ok mi metto a scrivere un libro voglio fare una storia corale con tantissimi punti di vista bla 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 no quando poi ho studiato sono sono migliorato eccetera eccetera adesso mi rendo conto dei vari problemi che dà avere tutti questi punti di vista quindi in un eventuale prossimo lavoro sicuramente diminuirei ne farei meno sicuramente ecco in questo voglio precisare una cosa che io invece ho diventato entusiasta all'idea di fare tre quattro punti di vista proprio per come l'eleganza di avere ogni arco di trasformazione diverso a livello tecnico entusiasmo che riguarda me e forse altre due persone in Italia allora tre punti di vista li farei non ho preso anche quattro sette no però anche quattro io arriverei a quattro per come sono fatto io probabilmente quattro è il mio numero ideale come infatti poi si sono rivelati essere quelli con l'arco di trasformazione completo in questa trilogia sono quattro ecco la dovessi riscrivere adesso terrei solo questi quattro fin dall'inizio senza mai coinvolgere gli altri tre per come l'avevo pensata all'inizio però tutti i personaggi servono ora io non è che vi sto dicendo tre personaggi in più non servono a niente no servono tutti però l'avrei progettata in modo tale che insomma che quattro che ne bastassero quattro insomma invece di sette si si poi tra l'altro comunque per come è fatto il tuo primo romanzo l'occhio del gufo in realtà i punti di vista in più penso jazz la ragazzina cose così in realtà ci stanno da dio dentro cioè secondo me è vero che creano dei problemi Victor Victor che poi abbiamo anche nel secondo romanzo penso stiamo sui quali a dirlo secondo me ci stanno da dio ci stanno da dio cioè il problema infatti non è che non ci stiano bene o non diano una visione di insieme figa tant'è che lui mi ha fatto innamorare l'idea di fare romanzi non necessariamente con uno o due punti di vista tipo con protagonisti come l'anno di romunco due punti di vista ma arrivare a tre o quattro non necessariamente quattro archi può essere un arco con i protagonisti e due archi singoli diventano tre archi e quattro personaggi tutti i discorsi affrontati in quella nel corso accelerato di storie con le storie seriali perché è già il mio cliente però mi ha fatto appassare a questa cosa e nel suo libro per esempio ci stanno bene unica cosa unico punto debole possiamo dirlo ma è ovvio se ogni punto di vista deve ingranare deve partire dobbiamo conoscerlo e noi ci abbiamo non lo so abbiamo abbiamo quattro incipit nello stesso libro perché per l'appunto uno dei problemi principali anche che mi sono stati segnalati dalle persone infatti bellissimo il libro 5 stelle però te lo devo dire ne hanno detto diversi all'inizio ho durato un po' fatica mi hanno detto si capisce chi sono i personaggi restano impressi perché li hai caratterizzati bene perché comunque ho cercato di fare un lavoro certosino sulla caratterizzazione di ognuno però effettivamente quando voi per esempio portate l'incipit ai live editing ecco io ne ho dovuti fare quattro all'inizio per presentare i primi quattro personaggi poi la storia si sviluppa attorno a questi quattro dare il tempo di sedimentare al lettore questi quattro personaggi per poi presentarne altri quindi diciamo all'inizio è come partire con quattro libri diversi perché devi fare quattro incipit capitolo uno capitolo due capitolo tre capitolo quattro con quattro personaggi diversi è molto difficile scusate un attimo mi sentite giusto adesso? sì perfetto avevo mutato il microfono per cercare una cosa allora vi dico una cosa perché ha parlato del fatto che tutti i punti di vista sono approfonditi sono pensati perché uno ci sia affezione eccetera io vi dico una cosa se vi è piaciuto la trilogia della prima legge di di Abercrombie tipo il richiamo delle spade il primo volume o anche gli altri a me è piaciuto l'ho letto anni fa il secondo volume dirò sempre che è una trollata perché c'è una certa cosa che non serviva ma è spoiler dirvelo però mi fa morire quella cosa e a me è piaciuto molto io ho adorato l'inizio col barbaro che fa quella cosa di divinazione quella cosa degli spiritegli apatici mi ha fatto impazzire ecco se vi è piaciuto quello e vi è piaciuto l'inquisitore non mi ricordavo non ho cercato su wikipedia glockta se vi è piaciuto quello non è spoiler perché non entriamo nel dettaglio io vi dico che vi innamorete perché il mio personaggio preferito lo adoro soprattutto nel secondo volume l'uin che è proprio quello che trovate nel primo capitolo l'uin che è un ragazzino sfigato ma poi vedrete un'evoluzione interessantissima che già accogliete nel primo capitolo quindi non è spoiler signori anche non so che c'è niente non mi sto dicendo nulla di specifico se avete amato glockta l'uin ha del potenziale e anche un altro personaggio che appora nel primo capitolo ha del potenziale cioè c'è della roba che considerando quanta gente ha amato quel personaggio è buona io adoro l'uin cazzo l'uin doveva avere tipo poteva avere un romanzo solo lui c'è un romanzo solo su lui nel fine secondo me è troppo meglio non sei l'unico che mi dice questa cosa che poi è proprio il personaggio che deve cambiare di più è il personaggio che affronta il suo mondo sradicato completamente c'è questo cambiamento anche sociale ci sono tutte le robe del trovarsi in un mondo che improvvisamente diventa un altro io lo adoro lo adoro non posso dire le cose dettagliate perché senta nello spoiler ma veramente cambia molto nel secondo volume però lui nel primo nel primo diciamo tanto tanto nel secondo ha proprio il cambiamento più più radicale di tutti gli altri nel primo diciamo c'è un po' adesso non mi ricordo se lui ha il primo atto nel primo volume giusto? sì il suo primo atto infatti mi ricordavo giusto allora no perché allora c'è un problema io ci ho lavorato a maggio-giugno non ricordo quando poi ho lavorato con l'autore al secondo mesi scorsi adesso non mi ricordo quando è stato che ci abbiamo lavorato settembre non ricordo più ottobre secondo sì no settembre settembre sì settembre ok e faccio un po' di confusione su cosa c'è dove un attimino quindi ogni tanto devo chiedere perché cioè li ho un po' troppo freschi e ci ho dovuto lavorare un po' troppo mi sono un po' mischiati ecco vi lo dico una cosa che dicevo prima lui inizialmente ha fatto questi lavori con me da questi lavori è uscito come sempre perché non è che io traggo sia dalle consulenze a pagamento che dai lavori fatti gratis con gli autori traggo poi queste conoscenze che poi trasformiamo in lezioni come detto non ci sarebbero state storie seriali o comunque sarebbe arrivato più tardi facendo prima un lavoro sul campo vero importante non fidandomi della teoria vasta che per me non esiste ma sempre verificata a un certo punto però ci siamo accorti che non solo la sua capacità di progettazione era eccellente ma anche la scrittura era fantastica tant'è che ogni tanto gli chiedevo consigli del tipo guarda tu hai un autore che è bloccato dalla terza persona ma tu che cazzo gli diresti per aiutarla a capire tu che errori ti ricordi che facevi esattamente cosa gli diresti e mi ha aiutato con un paio di autori che stavamo lavorando a racconti in terza persona dandomi suoi consigli perché è proprio l'esperienza di chi lo fa io posso spiegare la teoria generale e dire si fa così ma ci sono proprio dei blocchi degli errori razionali delle cose che non c'entrano con come è fatta la teoria che se applicata funzionerebbe basta che se uno li sa perché l'ha vissuta ti dà proprio quel consiglio in più infatti è stato molto utile poi in realtà è meglio avere proprio un testo cioè se voi prendete l'occhio del gufo perché volete studiare un testo scritto in terza persona praticamente perfetta quindi lo potete trattare quasi come se fosse un testo di vaporteppa solo che invece un testo per la prima è un testo per la terza voi da questo testo se sapete leggere cioè se sapete leggerlo chiedendovi cosa viene data come informazione cosa sapeva il lettore cosa non sapeva come evito di sembrare un narratore esterno e come faccio sempre in modo di essere in realtà dentro il personaggio anche nonostante l'uso di abbondante discorso in diretto libro per presentare la sintesi dei pensieri che è un po' come quando nei pensieri in prima persona non riporti un pensiero che è parola per parola ma riporti l'opinione su qualcosa ok che per noi è un pensiero in prima persona in terza acquisisci una forma diversa discorso in diretto libro perché magari i pensieri li fai non so in corsivo sono piccole cose ma ci si confonde quando le si fa ma se tu hai un testo 400 pagine di roba e poi arriverà a novembre il secondo che puoi usare come fonte di esempi e per fare il lavoro che io insegno a fare col metodo trave che è un sistema di studio dura un paio di ore di spiegazioni che do a tutti i miei corsisti avanzati gratis tu lo applica a questo testo puoi imparare a scrivere una terza persona eccezionale ok tant'è che proprio studiando da l'esempio di capitolo che mi aveva dato applicando le cose eccetera sono usciti risultati molto pregevoli da parte anche di miei autori che hanno poi pubblicato racconti in terza persona è stato un enorme aiuto qua di Andrea tant'è che io con Andrea mi sono trovato in imbarazzo perché io mi sono trovato a dirgli ok abbiamo fatto tutti questi incontri a pagamento cioè sono contento che mi paghi ovviamente però io se fosse successo le cose in ordine diverso cioè che tu non eri stato già scelto da Mondadori ma tu magari vincevi una live privata con un testo fatto bene e io dicevo che volevo lavorare con te e ci mettevamo a lavorare assieme sul testo e poi dopo scoprivamo che la gente aveva accettato la proposta e ti aveva passato a Mondadori noi avremmo lavorato gratis quindi a questo punto gli ho detto io non me la sento di proseguire a chiederti i soldi e mi sembra anche sbagliato non supportarti e quindi ti seguo sui romanzi da questo momento gratis come se fossi un autore di Vaporteppa quindi Andrea a tutti effetti da quel momento è stato trattato come un autore di Vaporteppa non è fisicamente nella collana Vaporteppa ma chi se ne frega il nome come per esempio ho altri autori che pubblicano altrove semplicemente non si chiama Vaporteppa perché quel nome l'ho dato ad Hackeron Books per fare quella collana ma vengono trattati allo stesso modo avevamo in ballo un romanzo storico con un grosso editore per esempio che poi abbiamo spostato ho fatto un certo lavoro inizialmente per Vaporteppa che poi è andato in stand by e verrà pubblicato da un grande editore altra cosa successa ma vengono trattati allo stesso modo perché c'è la questione che non lo si fa solo per soldi cioè Andrea Butini per esempio non è che scrive per soldi scrivesse solo per soldi farebbe thriller o rosa si fa anche per passione nel suo caso soprattutto per passione nel suo caso è dark fantasy e portare certe storie che non vede fatte come vorrebbe portarle al pubblico perché vuole condividere l'amore per la scrittura nel mio caso è la stessa cosa che c'era nel 2007-2008 quando ha aperto Baionette Librarie cioè l'idea del l'editoria è formata da un pugno di persone pochissime persone che decidono tutto se riusciamo a far capire a queste persone oppure riusciamo a portare al pubblico questi libri diversi le cose possono cambiare perché per il grande pubblico anche senza far cambiare idea a nessuno cioè non so le quattro persone tre quattro persone che dominano tutto il fantasy italiano non gli frega mai niente la scrittura immersiva non gli frega mai niente la sceneggiatura c'hanno altri grattacapi c'hanno i loro problemi c'hanno i loro cazzi c'hanno le loro famiglie non gli frega niente ed è giusto così va benissimo non giudico sono professionisti non giudico però ad esempio per i lettori fa tanta differenza se assieme alle opere normali di cui tante volte si trovano a dire questo libro non mi è piaciuto questo mi è piaciuto c'è sempre quella cosa di trovare per ogni libro bello un libro che o che ti lascia la mano in bocca che proprio ti delude ok potete dire ok voi volete magari qualcosa di diverso volete testi in scrittura immersiva e vi faccio scoprire che cos'è progettati in un certo modo con un certo stile avere tre quattro cinque sei sette libri fa tutta la differenza del mondo tra averne zero e averne un po' ok quindi per me è diventata una questione del devo fornire questa cosa far vedere che un altro modo di scrivere è possibile e creare uno standard editoriale più alto con cui che lo vogliano o meno i testi dei grandi editori andranno a confrontarsi perché il pubblico l'ha letto magari sangue del mio sangue ha letto la stirpe delle ossa avrà letto la canzone dei morti e quindi quando prenda a giudicare un testo di un grande autore portato non so Fanuccio Oscar Valt quello che vogliamo Newton Compton quello che ci pare un qualsiasi grande editore lo andrà a giudicare con dei parametri di sapere che un tipo di scrittura diverso è possibile e che se quegli autori stranieri scrivo in un certo modo ed è facilissimo scrivere meglio anche magari quello stesso lettore ha imparato in pochi mesi a scrivere meglio di loro gli comincia a rodere e a questo punto comincerà a dare voti più bassi e a dare meno importanza agli autori stranieri che scrivono con gli standard degli autori stranieri e a dare più importanza agli autori italiani e a questo punto quando arrivano Andrea Butini o una Stefania Spanò con Nannina e poi ci saranno altre cose signori che scrivono meglio della media a questo punto diventano spingibili diventano un elemento di novità un elemento di novità riconosciuto da questi lettori che magari sanno e che quindi poi daranno più possibilità ad altri autori italiani a patto ovviamente che dando un'occhiata come scrivono sembrino diciamo autori che hanno studiato che sanno le cose quindi una cosa importante questa cosa non si può fare a pagamento per il semplice fatto che a dirà non penso che Butini mi avrebbe mai sganciato con tutte le ore che ti ho fatto di consulenza lettura poi mi dovevo fermare esatto poi dovevi fermarti ovviamente la casa editrice non sarebbe stata interessata perché non le capiscono le cose tecniche quindi è un cambiamento che per farlo non devi esserli solo per soldi se io fossi qui soltanto per soldi signori avrei lanciato altri quattro corsi che sono in attesa da tre anni quello sul fantasy quello per gli editor eccetera eccetera li avrei già lanciati quello sui dialoghi per dire che per vari motivi ho deciso che non era una buona idea li avrei lanciati li avrei monetizzati avrei fatto le campagne a Zabalanga quando le altre costavano poco ma non siamo qui solo per i soldi siamo qui per cambiare l'editoria soprattutto in certi generi non necessariamente cambiare la ganancia ma cambiare per i lettori è come Andrea Butini si fa un mazzo così e mi faccio anch'io è come giusto sì no volevo dire che tutto l'impegno che comunque ci mettiamo per scrivere in un modo che ti porti dentro il personaggio e che ti e che ti ti faccia sentire lì effettivamente perché poi comunque scrivere dall'interno del personaggio ti trascina lì vedere la scena con gli occhi del personaggio ti trascina lì sentire quello che sente gli odori le sensazioni provare anche quello che prova ti dà quell'esperienza immersiva appunto che poi sono etichette però sono quelle etichette che ti servono per capire quello che vogliamo dire no il senso è mi hanno detto in tanti anche che proprio tanti lettori ma anche tanti miei amici che non sanno veramente niente di scrittura tantissimi mi hanno detto cavolo però questo modo che hai di scrivere mi fa vedere le cose cioè io riesco a visualizzarle riesco a sentirle mi sento lì me l'hanno detto persone che con la scrittura non non c'entrano niente per l'appunto no miei amici conoscenti vari parenti che hanno preso il libro solo perché sono parenti cioè nel senso quindi sentirsi dire cavolo però scrivi bene perché comunque le scene le vedo mi sembra ad essere lì le vedo in mente poi il libro scorre si beve queste sono parole usate dalle persone comuni che non è che ti dicano sì ma la scrittura immersiva è così no non si tratta poi di dire io faccio scrittura immersiva io faccio scrittura di qua faccio via le faide e iniziamo a pensare di scrivere uno in maniera scorrevole due nell'essere immersi nella scena che è quello che conta davvero cioè noi vogliamo attirare il lettore e fargli girare le pagine come se il libro davvero se lo bevesse è quello lo scopo principale della scrittura l'intrattenimento il divertimento la riflessione insomma quello che si vuole però le pagine devono girarsi se no si va a leggere i saggisti insomma esatto questo è un discorso molto importante anche perché è stato un elemento importante anche della costruzione per esempio sui social di Lorenzo Manara voi non dovete parlare non dovete dire niente non dovete mai nominare cose tecniche tipo scrittura immersiva uno potete attirare soltanto gente che magari è lì per fare la polemica ma soprattutto quelli non sono lettori Lorenzo Manara mi ricordo un sacco di volte mi ha detto ringrazio il cielo di non aver mai pensato di parlare di scrittura nel mio canale perché così è arrivato solo il pubblico sano di veri lettori che non sono gli scrittori perché gli scrittori magari servono a me per vendere i corsi ma voi autori servono i veri lettori non lo scrittore che arriva dicendo oh sì certo questo ha fatto un romanzo storico in Toscana ma io l'avrei fatto meglio questo non capisce un cazzo poi se lo faceva in terza persona era meglio così no e ti arriva il troll che fortunatamente non è mai successo perlomeno a Manara non è successo una roba simile grazie al cielo però può succedere come potrebbe da un momento all'altro arrivare a Butini quello che magari gli rode il culo perché ha provato a candidare anche lui un fan di cinque anni fa con Mondadori con Nicolazzini con un agente con Itero Grosso quello che volete gli è andata male e quindi si è messa a studiare ha detto no che schifezza mi hanno sabotato perché io non facevo scrittura immersiva bastardi e allora si incazza ovviamente se tu parli di scrittura immersiva si incazza perché c'è la lì che il suo romanzo di merda magari non è stato pubblicato ma non era quello il motivo ovviamente che faceva schifo anche perché gli editor i grandi editori non sanno cos'è la scrittura immersiva tant'è che non dite mai quella parolaccia in una mail di presentazione cioè pensano che state cioè si entra nel meccanismo di sta dicendo cose che non so che mi fanno sentire ignorante già non piacete esatto no nella mail di presentazione non parlate proprio di scrittura lasciate insieme il testo a parlare cioè esatto esatto voi dovete fare il lavoro bene per il pubblico che di cose tecniche non sa niente come ha fatto Andrea dovete farlo per loro e non serve che ne sappia niente non vi interessa il pubblico della scrittura può interessare a me per vendere corsi può interessare a me indicare che certi romanzi hanno una scrittura immersiva che so in terza in prima quello che volete per aiutare voi che siete scrittori ma io non faccio l'autore voi come autori state lontani da questa merda vi porta solo guai sì cercate generalmente proprio di allontanare le etichette cioè io delle volte nemmeno magari mi ricordo i nomi dei punti di svolta dell'arco di trasformazione delle volte perché per l'appunto sono etichette però so quali sono i passaggi capito quindi a volte anche studiando uno per forza deve leggere etichette per una questione un attimino di velocità anche di studio di capire di cosa si sta parlando però poi quello che conta davvero sono i principi anche in fase di scrittura delle volte magari ci sono dei problemi che nella teoria non trovi nel manuale non trovi però se hai consolidato il principio di come funziona lo risolvi il problema esatto esatto Lanfranco è un mio corsista abbastanza avanti con l'età e ha molto apprezzato vedo bene bene sono contento sono contento grande Lanfranco grande allora prima di proseguire perché c'è una domanda che chiede come ti è venuta in mente l'idea per il romanzo ah no prima rispondo a questa quindi sì allora attualmente i migliori esempi di scrittura in terza persona sono questo romanzo terza persona immersiva questo romanzo più scusate che lo recupero ok scusate ma non so dov'è i racconti di Simone Corà e il racconto di Marco Cresciz nell'antologia di Acheron Books Notte Horror 80 e devo recuperarla perché non mi ricordo a me ma i nomi scusate sì trovata qui dentro in particolare se ricordo giusto il racconto di Corà qui spero di non sbagliarmi signori però il racconto di Corà mi sembra abbia soltanto il discorso in diretto libero senza i pensieri diretti ma non sono sicuro mi sembra di sì no forse a te sembra di sì ho questo vuoto di memoria se è solo in diretto libero ok non ce l'ho qui sotto mano ma mi sembra di sì magari non aspetta ok no forse ci sono un paio di pensieri no forse c'è qualche pensiero in corsivo che vedo qua sì c'è qualche pensiero ma sono pochi forse è quello di Cresciz che è tutto solo in diretto libero forse non lo so comunque per dire col testo di Buttini avete un esempio di ottimo bilanciamento di pensieri diretti usati in particolare quando servono e per ad esempio vabbè fare robe che spiegano il corso avanzato signori quando parlo di terza persona ok che vedrete nel dettaglio le vedrete anche nel bonus nel regalo di cui io parlo tra pochi minuti ok qui avete un esempio di uso maggiore del discorso in diretto libro fatto veramente bene non fatto un po' come capita un po' così così che come ci dovevamo abituare con certi esempi precedenti che quindi non usiamo più come esempi di terza persona consigliati quindi questi sono gli esempi da usare il racconto di Simone Corà e il racconto di Marco Crescizi il notte horror 80 di Acheron Books sugli altri racconti non mi esprimo perché francamente non li ho letti quindi io non posso dire nulla su questo e sul seguito ok signori e vi prendete questi c'è sempre l'opzione alieni coprofaci dallo spazio profondo certo c'è quell'opzione ma io non lo rileggo da anni quindi io non ve lo porto come prima opzione ok dovrei rileggirlo per esempio so che l'incipit ha diverse cose che oggi migliorerei quindi se dopo è scontato che magari altre piccole cosette che erano presenti nel 2015 signori e ci abbiamo lavorato quell'anno lì oggi le migliorerei dopo è scontato che siano anche altrove quindi vado a pensare che probabilmente sia meno buono dell'occhio del gufo e degli altri esempi detti stesso discorso per l'altro racconto in terza persona che credo sia maggiori riferita è la gatta degli anchi forse quello lì che non è neanche in Acheron Books è solo in ebook con la vecchissima gestione come anche gli anicoprofagi sono ottime terze persone certo ma non le consiglio come esempi usate questi libri sono meglio ok così andiamo sul sicuro perché gli altri dovrei leggerli io la gatta degli anchi non la leggo da 5 anni credo signori non ce l'ho sta memoria io ok bene ora c'è una domanda per te e dopo la domanda vorrei portare il regalo madonna dov'è la domanda ah grazie eccola qui grazie Igor Andrea ci parli dell'idea com'è venuta se è trattato in un processo o di un'intuizione irresistibile allora è nata come intuizione ma poi come tutte le intuizioni poi vanno processate quindi ora senza cadere negli spoiler la mia idea era partire da questo villaggio in cui si muovevano diversi personaggi e creare un mistero creare degli eventi che si andavano a concentrare in questo villaggio e creare una sorta di thriller dark fantasy in cui questi personaggi dovevano si trovavano insomma a dover fronteggiare una minaccia che di cui non sapevano niente da lì però poi progettando e studiando andando avanti con lo sviluppo dell'idea ok world building caratterizzazione dei personaggi la storia poi doveva apparare colleghi tutti i punti e da lì poi è nata tutta la trilogia compresa anche di temi e di diciamo allacciamento tra virgolette di di tutte le caratterizzazioni dei personaggi di tutto il world building anche con i temi e del sistema magico eccetera eccetera cioè c'è stato un lavoro di interconnessione da più parti per collegare appunto tutti i toni a quello di cui parlava il romanzo insomma tutti i toni tutte le psicologie dei personaggi tutte le varie le varie cose che succedono dove vengono portati a quelli i ragionamenti ora il duca lo sa insomma è una trilogia dove si parla anche di di cose un po' più introspettive no? cioè c'è un tento di andare un po' più a fondo nella caratterizzazione dei personaggi di di esplorare proprio l'interiorità e quindi di di allacciarla anche ai temi importanti della storia e al sistema magico che penso di aver ben collegato insomma a a tutto il resto quindi c'è stato sì l'intuizione iniziale è fondamentale però poi devi ho dovuto lavorarci molto per per crearli insieme senza fare spoiler possiamo dire che il sistema magico è molto cupo molto dark perché si basa sul fare dei sacrifici personali per ottenere dei risultati e più c'è tutto un modo in cui c'è un imprinting di questo potere è una cosa molto figa senza fare spoiler è una cosa molto cupo non è la magia del prendi il guano a pipistello fai la palla di fuoco è più un sacrifica qualcosa per avere qualcosa sì non è una cosa mi hanno già detto che è una cosa che sicuramente è già stata fatta e lo so sì è già vista nel senso non è sicuramente una cosa che non è già vista quello che ho cercato di fare io era di diciamo inserirla perfettamente nel come viene fatta cioè di rendere bene il come viene fatta e inserirla perfettamente nel contesto di tutta l'atmosfera ho cercato di fare questo perché il sacrificio per ottenere potere è ciò che c'è dai fantasy del 70 insomma è classico ma si può arrivare proprio al folcore tradizionale cioè a parte andare sulle porcate come il libervac dove letteralmente sembra la magia di V&D in versione più interessante ma una porcata e con quella visione di totale porcata era visto nel tardo medioevo il libervac ma andando anche sulla magia tradizionale spesso c'è un accordo per ottenere poteri che poi richiede un sacrificio che può essere il sacrificio dell'anima classico problema teologico della magia con i demoni tu stai soggiogando il demone o il demone essendo creatura più perfetta di te più vicino a Dio tu non lo puoi per necessità soggiogare quindi il demone sta fingendo di essere soggiogato in modo che tu pensando di dominare sui demoni in realtà stai peccando e la tua anima andrà all'inferno e quindi in realtà il demone si sottomette in modo che tu ti convinci di là sto facendo un buon lavoro anche per Dio nel sottomettere un demone in realtà la tua arroganza ti porterà all'inferno un discorso teologico affrontato molto bene da Ilaria Parri nella magia del medioevo un testo italiano molto interessante parla di magia con astrologia senza astrologia con demoni senza demoni con preghiere senza preghiere tutte le varie combinazioni sacrificio che sia un sacrificio fisico un sacrificio un sacrificio di legami di sangue come può essere quello che vedete in Berser che quando qualcuno contatta la mano di Dio e diventa quello che diventa io ho adorato tantissimo la storia del conte quello lumacone che è uno dei primi mostri che appare io l'ho adorata mi piaciuta tantissimo mi è piaciuta come lui non abbia perso la sua umanità nonostante quello che era diventato è uscito da più di vent'anni non è uno spoiler come lui comunque non arrivi a fare l'altro sacrificio perché lui comunque pur essendo un mostro è più umano di gazzu quasi quasi cioè è una cosa bellissima quel personaggio è sempre piaciuto poi è orribile però mi è sempre piaciuto anche il modo in cui è diventato malvagio per per un qualcosa di orribile che gli accade per un trauma emotivo gravissimo abbiamo una costruzione del cattivo molto bella in quel poco che vediamo nei flash insomma quelle robe lì ecco che come andrebbe fatto un dark fantasy ecco seriamente non il cattivo perché sì così vanno fatte le cose così anche Butini ha agito nel suo testo in modo molto interessante allora facciamo così presento il regalo poi tu intanto pensa a cosa ci siamo dimenticati di dire tra le cose concordate e poi risponderò a un dubbio di un di Lorenzo credo sì di Lorenzo rispondo dopo allora signori arriviamo al regalo allora per tutti gli iscritti in mailing list ma dovete essere iscritti in mailing list ok signori per tutti gli iscritti in mailing list lunedì 6 novembre sì è 6 novembre lunedì 6 novembre alle 19 precise qui dovete essere iscritti in mailing list prima delle 19 di lunedì 6 novembre verrà mandata in regalo l'analisi dettagliata riga per riga commentata del primo capitolo dell'occhio del gufo sono incluso commento iniziale finale tre ore di analisi credo c'è un attimo un voto in memoria mi ricordo che l'analisi del solo testo precisa sono tipo due ore trentacinque più considerazioni extra siamo sulle tre ore adesso ho veramente un voto di memoria è un sacco di roba ed è solo il primo capitolo analizzato per dire ok chi è già mio corsista avanzato e magari per diversi motivi ha preferito disattivare le mail di marketing e cose così se la troverà nel corso avanzato in più chi è mio corsista avanzato nel corso del mese di novembre si troverà anche l'analisi del secondo e del terzo capitolo chiaro? sempre per dare più esempi più spiegazioni e da quelle analisi trarre materiale di riflessione sulla terza persona per rendere più votato la terza persona un corso che attualmente per colpa di mancanza di esempi dava un enorme privilegio alla prima persona a scapito della terza ma non perché la terza venisse maltrattata apposta anzi c'è una lezione intera che spiegava le sue difficoltà a cosa stare attenti cosa fare se volete farla rifletterci veramente se volete farla perché non va presa sotto gamba c'è tutto un discorso di che cosa bisogna fare esattamente però se uno impara a farla veramente bene con tutti i sacrifici necessari possono venire grandi risultati quindi ci saranno più approfondimenti ok quel regalo solo per chi è in mailing list se non siete in mailing list o se centrate dopo il 6 novembre signori sono problemi vostri ok quindi se non siete iscritti iscrivetevi infobox trovate il link all'occhio del gufo da comprare su amazon ma se volete comparlo in libreria scusate un po' distante dal microfono se volete comparlo in libreria aiutate a supportare gli autori italiani perché dato un messaggio ai librai ok signori di sta vendendo ordinatene altri il messaggio che poi arriva al distributore che poi prima o poi arriverà all'editore del tipo conviene fare un'altra di stampa che ne so ok signori quindi messaggio importante poi è vero che il pubblico del fantastico e di oscar volti in generale tende a comprare magari molto online ok però comunque il messaggio ai librai se potete darlo datelo io le mie quattro copie che volevo per fare quattro regali le ho chieste in una feltinelli non le ho ordinate su Amazon ok perfetto quindi dovete essere in mailing list e il 6 novembre alle 19 vi arriva quel regalo chiaro? arriverà a tutti perfetto ottimo bene Andrea ti è venuto in mente qualcosa che non abbiamo detto? beh no in realtà no si è detto credo tutto ok allora beh sicuramente potrebbe essere una buona idea coinvolgerti in live future per parlare di nuovo della tua esperienza parlare di scrittura e tutto poi tra l'altro sei appassionato sia di giochi di ruolo che di fantasy e varie cose eccetera questa è una buona idea sperando che non ci sia sperando che non ci sia un altro temporale per la connessione si può ragionare se magari riesci a venire a Natale con la teppa visto che tecnicamente sei un attore tra virgolette va por teppa fuori da va por teppa potrebbe essere una buona idea volentieri volentieri ci ragioniamo se riesci vediamo in che data farlo se riesci stavolta vabbè i temporali non puoi farci niente quindi eh no chiedo ospitalità magari a qualcuno ottimo ecco rispondo a Lorenzo allora allora Lorenzo al di là che il mio corso avanzato adesso non si può comprare però devi aspettare il il fine settimana del Black Friday vi riporto il corso avanzato di scrittura e sceneggiatura quella grossa novità fatta con quell'autore che ha pubblicato con bla 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 valanghe di grandi editori dodici romanze arrivati in libreria eccetera più altre cose che vi parlerà di certe robe che butini si sarebbe mangiato i gommeti a saperle prima perché potevo fare la differenza per avere un lancio ancora più bello e io davo per scontato gli sarebbero state insegnate in agenzie in altre certe cose le davo per scontate io colpa mia se no due anni fa gli avrei detto aspetta un attimo che devo farti un discorsetto avremmo fatto altre cose ok però comunque tu mi chiedi se c'è un lavoro diciamo diretto di progettazione editing no non c'è perché quel lavoro richiede ore ore che devono essere pagate il corso è un corso si compra il corso video lezioni testi scritti articoli tutto l'insieme ok c'è un supporto certo se non ha dubbi domande cose varie c'è un minimo di supporto ovviamente c'è un gruppo online che dà un bel po' di supporto ho visto discussione nelle ultime settimane che posso arrivare ad avere anche 60 commenti quindi la gente si supporta e sono commenti intelligenti fatti da persone competenti c'è un ottimo controllo e selezione scusate e e c'è il lavoro di editing però volendo c'è nel senso che ci sono gli esercizi come ci sono le LEL pubbliche tipicamente il martedì questo martedì non ci sarà ve l'avevo già detto non ci sarà domani sono occupato voi passate allo come volete ci sono anche le LEL private dove si sta un paio d'ore e analizzo il vostro testo con voi proprio materialmente come siamo adesso uno a uno con Andrea ok e vi chiedo di vedere i vostri errori vi do delle indicazioni per trovarli da soli facciamo l'analisi e si lavora su un 1500 2000 parole di testo quello che è quello che si riesce a fare in due ore ok signori live di fronte agli altri corsisti e tutti i corsisti avanzati nel giornato in cui c'è la live possono vedere questa live privata e poi c'è un piccolo archivio che imbrasa il pacchetto di corsi che si ha può contenere tre live contenerne dieci o magari ci avete tutto il pacco gigante di 190 ore di live dipende da persona a persona signore cosa avete comprato quindi c'è del supporto di editing anche grosso se non si vuole impegnare la possibilità di essere scelto e seguito per essere portato alla pubblicazione con Akron Books o quello che volete voi se io vi scelgo perché siete bravi e voi mi dite io voglio tentare col grande editore tentiamo col grande editore se mi dite ho già il contratto col grande editore io vi ho trovato che siete bravi e voglio lavorare con voi vi seguo col grande editore gratis però appunto mi dovete convincere perché per me è il lavoro gratuito tutte cose che non posso tutte ore che non posso spendere giocando a Baldur's Gate 3 leggendo narrativa facendomi i cazzi miei invece che lavorare 12 ore al giorno e più capito? perfetto tutto lavoro di cui non ci guadagno niente quindi mi dovete convincere con una buona idea ok signori? perfetto se uno per forza ha bisogno di incontri di progettazione non è stato scelto c'è sempre la possibilità di comprare degli incontri privati se andate all'ultimo video uscito quello che parla della canzone dei morti c'è un bonus per chi compra in anteprima la canzone dei morti per avere un incontro estralargi di ore con me a un prezzo ridicolo 250 euro invece di 400 per un mega incontro di due o tre ore con me strategico sulla propria storia sulla propria carriera su quello che volete ma sono altri discorsi beh spero di aver risposto in modo completo Andrea ti è avuto in mente nel frattempo qualcos'altro raggiungo o siamo sempre a posto? no però se vuoi rispondo velocemente a una domandina credo di allora Lord Hate ha chiesto 23.09 ok descrivo una trilogia prima della stesura il primo libro poi c'è stata richiesta da direttore di andare avanti no allora la storia nasce intera come trilogia cioè la storia nasce grossa vasta e lunga purtroppo anche quello parte dell'inesperienza è stato partire a scrivere il primo libro e come dicevo quando l'ho proposto ed è stato accettato non avevo ancora studiato bene i vari corsi in cui poi mi sono iscritto quindi diciamo che quando io ho proposto il primo libro della trilogia tra me e me mi sono detto non mi risponderanno mai perché tanto il primo libro della trilogia ovviamente non mi pubblicherà mai nessuno quindi mi ero messo subito al lavoro su uno stand alone diciamo su una storia singola in un libro solo però mentre ero al lavoro su quello stand alone per l'appunto mi è arrivata la risposta e con l'approvazione eccetera eccetera quindi per forza di cose c'è stato l'ok vai avanti scrivi gli altri quindi sì la storia era nata assolutamente come una trilogia ottimo 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 così è più chiara la questione eccetera perfetto poi ovviamente è rischioso presentarsi con il mattonazzo come ha detto lui è un rischio molto rischioso molto rischioso immaginate quanto gli ha ben impressionati con la sua lettera e con lo stile di scrittura nonostante possa dire che era molto peggiore era molto peggiore è vero ma nonostante questo quanto gli ha impressionati per accettare addirittura un progettone di queste dimensioni insomma ecco sì poi ovviamente loro hanno voluto vedere anche gli altri cioè nel senso non sono non sono gli ultimi arrivati ecco quindi sono stato messo alla prova insomma perfetto tanto vedo le private in effetti sono molto comode Camilla ha partecipato non mi ricordo quante live hai fatto due? non mi ricordo più vabbè comunque tanto sono live che si possono fare anche da editor perché ad esempio lunedì prossimo se tutto va bene passeremo a fare una nuova live con editor ovvero abbiamo un corsista che fa le mie veci con io che lo sorveglio e lo stuzzico sul trovare le cose e il testo è di un altro corsista ancora appunto perché alcune persone vogliono formarsi magari o principalmente come editor e non come scrittori perché alla fine gli insegnamenti del mio corso sono per scrittori e per editor le stesse cose dovete sapere per operare bene lasciate stare che poi gli editor in Italia regolarmente ne sanno quanto gli scrittori cioè zero se voi volete farlo seriamente quelle competenze vi servono e quindi c'è tutto un discorso di poter partecipare a quelle live sia con i testi che correggendo i testi utili anche per scrittori tra l'altro bene c'era qualche commento qui vabbè tutti quanti gran regalo grazie tutto perfetto fantastico sono contento giusto discorso presente in il testo di padre sinistrari come si intitolava demonialità di padre sinistrari con la questione dell'introdurre il peccato di demonialità in quanto il peccato di accoppiarsi con un demon non può essere bestialità perché il demon è essere superiore all'uomo quindi al massimo è lui che commette bestialità con l'uomo grande moiche che ricorda le citazioni e legge cose raffinate bellissimo testo è un teologo molto raffinato mi sembra il testo è di o fine 600 inizio 700 non ricordo testo molto raffinato anche per avere una visione di qual era il mondo del fantastico e la percezione del mondo fantastico degli dèi delle creature mitiche come reali nella concezione teologica cristiana e siamo già praticamente nel 700 signori molto bello bene allora io non mi ricordo cos'altro dobbiamo dire quindi mi sa che abbiamo terminato le cose padre sinistrari sì se ricordo giusto il nome sì ok sì meglio un romanzo un romanzo autoconcluso poi è sospanso per esempio discorso che faccio anche ispirato dal caso di Butini ma mi veniva già dall'esperienza con certe saghe storiche come i romanzi di Sharp cioè sul personaggio di Sharp di Sharp scusate di Cornwall mi sembra come autore cioè fare la coralità o la saga non tramite un romanzo spezzato in più volumi ma romanzi singoli anche godibile in qualunque ordine io ho letto per primo Assalto alla fortezza un titolo simile che era il terzo della storia di Sharp quindi io mi sono interfacciato con un Sharp che era già mi sembra sottotenente o sergente non ricordo quali dei due e poi ti puoi recuperare gli altri cioè tutte queste spiegazioni ve le ho messe già comunque nel corso accelerato di storie e storie seriali che viene proprio dalla esperienza concreta non solo dei grandi autori internazionali e delle principali serie tv ma viene anche dal lavoro concreto come detto su quel romanzo poi è diventato due della serie Terna World di Livio Gambarini mio studente poi è diventato formatore eccetera da cui tra l'altro ha studiato anche col corso sul fantasy giusto? sì col corso sul fantasy Andrea Butini un corso che dà lo stato dell'arte del fantasy molto interessante da quel punto di vista e poi con Andrea Butini con questo lavoro ancora più impegnativo ok? quindi proprio un corso che vi dice la verità ovviamente vi farà male perché se voi venite ad un'esperienza della storia corale 12 punti di vista vi sentite George Martin dei romanzi peggiori più criticati dal pubblico e non dei primi eccetera eccetera e qualcuno vi viene a dire che signori fare questa cosa ha dei pericoli fare questa cosa avete delle conseguenze le pagherete è ovvio che se avete magari problemi di ansia generalizzata e quindi dovete sentirvi supportati e validati in ogni vostra scelta anche sapere che quella scelta che comunque potete fare avrà dei pericoli vi farà stare male ma avete un problema che va affrontato con lo psicoterapeuta un problema d'ansia non un problema tecnico di scrittura signori voi vi troverete quella roba lì cioè sarà faticoso sarà difficile perché non esiste che fate 12 punti di vista ed è comodo come farle due e dovrete accettare una cosa inserisco tra parentesi prima ho detto che era molto difficile anche l'inizio di fare tanti incipit per tanti punti di vista creare l'empatia con tutti eccetera eccetera ma la parte più difficile non è l'inizio la parte più difficile è chiudere tutti gli archi quindi quello è un delirio quello è un delirio in effetti che è facile quando è coprotagonisti perché gli pensi apposta in modo che quel personaggio singolo diviso in due arrivi prima o poi è unirsi in modo che la vicenda fisica del climax sia congiunta quando hai tanti personaggi è veramente un delirio perché ti trovi ci sono climax diversi sì in momenti diversi lì c'è un trucco un climax unico è molto molto difficile lì c'è un trucco che viene dal mondo delle serie tv che vi dico state attenti nelle serie tv fatte veramente bene c'è un personaggio che è più importante degli altri e la sua storia è quella vera ed è la sua storia quella che veramente inizia e veramente finisce e le altre possono aprirsi più tardi e chiudersi prima magari la storia abbiamo la storia più importante poi si apre la B poi si apre la C poi si apre la D poi magari si chiude la C poi magari si chiude la D poi magari si chiude la B e poi per ultima la A e quelle storie sono in funzione a rinforzare può essere la premessa se una soltanto ma non è detto che sia così può essere quella cosa che voi sottovalutate come scrittore regolarmente cioè l'atmosfera e la visione del mondo la visione del mondo è come il punto di vista tematico ma invece che parlare di quell'arco parla della visione del mondo in sé cioè voi potete avere una storia dove il punto di vista tematico è che l'amore possessivo per la famiglia distrugge la propria famiglia distrugge ciò che si ama e se stessi modello stripa delle ossa non so una cosa così un punto di vista così ma la vostra visione del mondo sopra che vale magari anche per un altro personaggio con un arco diverso che si trova nella stessa macro storia potrebbe essere che come visione generale che non importa quanto il singolo uomo si sforza sarà sempre sconfitto dalla massa e dalla macchina statale che è un punto di vista che era vitale nella trilogia fantasy mai pubblicata ci stiamo di nuovo lavorando di Menconi di cui vi ho parlato varie volte negli anni che aveva questo punto di vista dell'impossibilità dell'uomo di affrontare lo stato la dimensione l'enormità dello stato organizzato il singolo uomo non può fare la rivoluzione e cambiare tutto dato una visione affine a quella di alcuni storici sul fatto che quando prendete i grandi uomini che tra virgolette hanno cambiato le cose di solito si sono messi sull'onda di grandi cambiamenti che hanno cavalcato e se non c'era quello non è che potevano cambiare tutto se tu sei nella pre-storia puoi anche viaggiare con la macchina del tempo essere Napoleone ma probabilmente non crei il sistema dei notai perché sei nella pre-storia c'è un problema di fondo ok signori ecco insieme ai notai come ci è arrivato a noi in Italia dalla Francia ecco quindi insomma sono discorsi che spesso voi non fate perché non ci siete abituati ma questo dell'atmosfera della visione del mondo tante volte può essere il collante di una storia corale la visione del mondo anche se poi sono storie diverse poi queste storie potrebbero avere tutte lo stesso tema con punti di vista tematici diversi dittati da diversi difetti fatali o altre combinazioni ma non posso parlarvene adesso perché andrebbero via più di un'ora solo per parlare di sta roba e sarebbe introduttiva a un corso di storie di storie corali non accelerato ma grosso dettagliato corso che al momento non esiste e che non farò breve vi ho fatto l'accelerato di quattro ore apposta quello che è mi sembra siamo quattro ore proprio per darvi l'essenziale in attesa che abbia tempo magari di spendere venti ore per un corso dettagliato ok perfetto quindi Andrea grazie della considerazione perché effettivamente è vera qui il climax è molto peggio dall'inizio sì il climax infatti Moik ha beccato un tasto dolente ed è veramente un delirio capire come risolverlo perché il trucco che vi ho detto che si applica nelle serie tv sì ma poi in concreto è andate a provare ad applicarlo per davvero cioè è sempre facile dire si fa così ma poi provate a farlo è lo stesso motivo del se bastate semplicemente applicare le regole vi fate il corso base sapete scrivere l'occhio legufo peccato che non è così ecco vi dovete fare un mazzo tanto avere anche la sensibilità perché non basta la tecnica di scrittura per avere i contenuti dovete avere la sensibilità e l'esperienza e un Andrea Butini che ha studiato X eccetera ha una sensibilità che aveva anche prima di studiare che magari un altro corsista non ce l'ha infatti tante volte con gli studenti mi trovo a dire tu non hai problemi in scrittura il tuo testo fa schifo e mancano i dettagli perché tu non sei niente di quello che stai scrivendo ti manca la capacità di cogliere perché? perché magari è gente che passa tutto il tempo in casa giocando ai videogiochi e non ha l'esperienza diretta vuoi parlarmi di miniere? vai a fare turismo minerario studiati i testi sulle miniere guarda documentari dettagliati entra nell'ottica io sono andato veramente a fare turismo minerario perché mi piacciono le miniere e trovi una valanga di dettagli che puoi riciclare in una storia ed è così che andrebbe fatto perché tante volte prima una tecnica di scrittura ecco non avete un cazzo da dire invece Andrea aveva tanto da dire e la tecnica di scrittura francamente se uno si impegna si impara ecco sì sì non sono mica andato imparato insomma basta studiare per ogni personaggio ci sono tre archi di trasformazione per uno oppure un unico arco spezzato entrambi perché per ogni personaggio tre archi di trasformazione ah ok capito allora no quello sarebbe una condizione ideale se vuoi fare le storie seriali come le spiego nel nel mio corso accelerato nel caso specifico di Butini una maxistoria quindi considera che in 400 pagine se c'hai cinque archi quattro archi facciamo quattro archi completi e tre secondari facciamo che i quattro archi completi hanno diritto a due terzi del romanzo non lo so metà romanzo vabbè comunque sì 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 va bene facciamo finta che hai 300 pagine invece di 400 perché hai quattro archi benissimo già ti trovi che è soltanto matematica 75 pagine all'arco vedi non ci sta fisicamente in un romanzo un arco completo 75 paginette poi in realtà sono meno perché gli archi secondari hanno più importanza probabilmente eccetera esatto quindi in questo caso è una trilogia nel senso commerciale come è stato costruito gli anelli c'è un romanzo unico separato in tre per impossibilità di avere fisicamente un volume alto così esatto poi ovviamente ci sono stati degli accorgimenti che io ho adottato inserendo doppi magari turning point doppi mid point doppi esperienze di morte ci sono più punti di svolta insomma all'interno dei vari archi di trasformazione di ogni personaggio perché altrimenti se in tutto il primo volume ci doveva essere solo il primo atto di tutti i personaggi e nel secondo ci doveva essere lo svolgimento non è proprio così precisa la cosa sono più alcuni sono sfalsati altri sono proprio alcuni punti di svolta sono raddoppiati altri magari vanno più in secondo piano alla fine del primo volume ma gli è dedicato più spazio nel secondo volume c'è un intreccio un po' più adesso non mi ricordo bene ma mi sembra che c'era un personaggio senza farne il nome che aveva bisogno proprio di avere un arco di un certo tipo in cui veniva tipo non mi ricordo se sconfitto o cosa ed è che era la partenza di un altro arco dopo non mi ricordo più come avevamo lavorato all'epoca non mi ricordo sai non mi ricordo neanch'io perché sta cosa che appunto abbiamo dato più varietà possibile per cui c'erano appunto queste frammentazioni queste robe ah no ho capito cosa intendi perché un personaggio finiva in un in un tipo di arco simile a un altro e invece l'abbiamo fatto finire come tragedia sfiorata sì ok giusto giusto che era poi quel discorso che avendo questa cosa di completa ripartico ci sono vari discorsi strani che andrebbero fatti in modo più approfondito in un corso dedicato e che vanno a rispondere a questa spiegazione che poteva sembrare un po' strana dell'avere più di un'esperienza di morte ma perché abbiamo non è semplicemente appunto come detto un arco a personaggio ecco una cosa un pochino più complessa sì però appunto difficile parlare adesso tra l'altro a memoria uno sarebbe spoiler due a memoria adesso ho difficoltà a ricordarmi perché i dettagli sugli archi abbiamo fatti due anni fa sì poi alzo le mani cioè nel senso sulla carta a me le cose tornavano poi magari i lettori quando finiscono la trilogia mi tirano i pomodori e quindi la cosa è venuta male cioè nel senso io sì potrebbero esserci delle imperfezioni io ci ho provato ci sono delle imperfezioni però ho fatto il possibile cioè ho fatto il meglio che sono riuscito a fare io fino a quando non posso leggere il terzo volume quindi fino a quando non mi passi il terzo per lavorarci ovviamente non posso sapere perché per adesso coi primi due volumi è tutto ok quanto basta tenendo conto di un certo vantaggio e svantaggio delle storie corali trattato mi sembra nell'ultima lezione del corso accelerato che ho fatto quindi poi è tutto ok quindi io mi ricordo che sulla carta andava bene per ora vedo confermato che va bene quanto basta anche per varie motivazioni perché poi in realtà l'arco di trasformazione non lo fai perché per un motivo tecnico non c'è Aristotele che viene e ti bacia in bocca a un certo punto esatto lo fai per mantenere il pubblico attento alla storia tramite un insieme di colpi di scena legati a un significato comprensibile o intuibile legato al temo al difetto è per questo che abbiamo l'esperienza di morte per questo alcuni teorici vi dicono che dovete fare l'esperienza di morte come contenuto nel midpoint cosa sbagliatissima secondo me ma che ad esempio è stata applicata in Avengers Age of Ultron con tutti i problemi che porta di quella specie di eterno terzo atto fatto da mega combattimenti minchiate varie e quel midpoint che sembrava un'esperienza di morte cioè sono varie teorie non me lo ricordo ok sì sono vari casini ho trattati mi sembra del corso avanzato vari casotti così perché alla fine il discorso è che finché prendete un arco di trasformazione seguite la regola seguite lo schemino avete varie opzioni ma seguite quello più cominciano ad essere confuse le cose più le motivazioni per cui voi mostravate per esempio ogni singolo elemento si cancellano per esempio se avete quattro archi può capitare che di un personaggio non vi serve mostrare la sua esperienza di morte in diretta magari possiamo viverla tramite un altro punto di vista perché lui è più adatto a quella scena esatto o addirittura la sappiamo in background che è accaduta perché magari non serve vedere tutto siamo già soddisfatti e questo è stato fatto ci sono dei punti in cui magari alcune cose principali cose fondamentali sono magari vissute non dal personaggio che lo dovrebbe provare ma da un altro che è magari fatto a catalizzatore per lui questo però magari più avanti insomma esatto ci sono delle difficoltà legate alle storie corali che portano a fare scelte un po' diverse su all'ideale sarebbe fare tutto quanto nel modo perfetto in un certo modo ma non è sempre fattibile poi con un testo che già è stato pensato con una certa storia eccetera ovviamente ci è dovuto un po' adattare però sì 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 ritorniamo al discorso di prima che comunque io questa storia l'avevo già programmata e scritta ed era già stata approvata prima ancora che io facessi i colloqui con il Duka insomma se dovessi fare un'altra storia adesso diciamo che probabilmente darei più meno personaggi mi porterebbero ad avere degli archi più lineari insomma anche se probabilmente ci troveremo lo stesso ad avere le sovrapposizioni che dicevamo prima cioè di avere un pezzo che non diciamo un pezzo che lo vivono entrambi assieme ma possiamo usare un solo punto di vista e allora facciamo dei ragionamenti si lanciano la palla modello anno di romuncolo metà capitolo 1 perché c'è un punto di importanza di scampio o uno soltanto lo vive per intero e quindi filtrami anche con il suo filtro psicologico la vicenda drammatica dell'altro cioè in realtà non è che verranno risolte anche perché so che noia esatto no ma poi il bello è anche quello cioè quando hai questo tipo di intrecci con più personaggi il bello è anche voglio sperimentare voglio farlo vivere dall'altro e poi vede oppure questi che si accavallano allora questo lo sposto più in là oppure lo anticipo quindi insomma c'è un po' di sperimentazione in più con più punti di vista è più divertente secondo me è più divertente perché è la cosa che mi piace alla fine l'intreccio di più storie però è anche molto più difficile insomma ci ho battuto la testa tanto e niente è un bel casino quindi ve lo diciamo anche per un chiaro motivo come nel corso avanzato vi dico partite analizzando i film non le serie tv serie tv vuol dire molteplici archi molteplici personaggi molteplici cose non prendete la saga del sole pallido mi dimentico sempre come in che si chiama l'artilogia del sole pallido è colpa mia non scordo cioè è colpa mia ma perché è troppo alcol è un lippocampo distrutto ma non prendetela come cosa da analizzare per trovare la storia perché vi confondete qui avete il punto di vista di questo che proprio scoprite con un punto di vista che poi scompare e qui avete quest'altro quando avete capito che è quello principale e poi viene un bordello peggio che provare a fare che ne so la struttura delle stagioni di The Wire ok già Breaking Bad è facile prima stagione facilissima ok signori prendetelo per la scrittura se no impazzite se provate a fare l'analisi con quattro archi più gli archi di cui vediamo solo fette perché sono persuaggi secondari colti in momenti del loro evento arco tragico del loro arco eroico principalmente archi tragici quindi signori sta cosa qui è per la scrittura ok non fatemi quella minchiata di provare a analizzarlo per la struttura poi se cogliete gli elementi bene ma veramente rischiate di vedere false soluzioni di capire sbagliato come vi ho detto nel corso avanzato di sceneggiatura non analizzate le serie tv che è fino a quando non siete a un livello per dire che per voi è tac guardate il film al cinema al 90% avete fatto l'analisi di anche giusta quando la verificate quando siete a quel livello potete permettere io stesso per dire evito di analizzare le serie tv se non in casi rarissimi e mi concentro sui film ok perché comunque è una difficoltà che non ha neanche senso subire ok che non vuol dire che non lo faccio però lo faccio pochissimo quindi signori non cascate in questa cosa che vi fate problemi poi per il resto io a quanto visto per adesso le storie funzionano e funzionano bene quindi poi vediamo il terzo libro però a me risulta che vada tutto bene poi Buttini dice che non è esattamente così mi fido dell'autore perché lo sa lui che gli ha scritti quindi mi fido per adesso a me non risulta a me risulta tutto molto buono nei limiti appunto che abbiamo dovuto fare delle applicazioni specifiche per le storie corali per rendere il testo snello e perennemente il più incalzante possibile pur con tutte le difficoltà di avere tanti punti di vista ok vuoi dare qualche consiglio agli aspiranti scrittori è una responsabilità grossa avere pazienza considerate che io il primo per l'appunto me lo hanno accettato che era fine 2019 inizio 2020 ed è uscito ora a ottobre 2023 quindi senza la pazienza e la volontà di continuare a studiare continuare a scrivere riscrivere fare piccoli interventi per cesellare sempre di più il testo e migliorarlo sempre di più e continuare a voler studiare a voler scrivere per migliorare insomma senza avere pazienza non si va da nessuna parte perché se io avesse ricevuto il contratto insomma a fine 2019 impaziente fosse stato impaziente fosse stato esultante e tutto senza tutta questa volontà di continuare ad applicarmi a quest'ora c'era quello di prima che il duca dice era comunque scritto bene però per me non era per me non era sufficiente insomma io sono una persona che molto critica con me stessa e che prova sempre a migliorarsi sempre di più quindi per me la pazienza del lavorare a un testo come se fosse artigianato prendere lì frase per frase e modificarla eccetera eccetera è fondamentale quindi avere pazienza studiare e migliorare sempre di più nel tempo insomma bene non riesco di trovare il commento ma ricordo vagamente che hanno chiesto se alla presentazione ci sono le copie in vendita sai se c'è un aggiornamento su qualcosa? mi hanno detto mi hanno detto di sì ho chiesto mi hanno detto che c'è il banco vendita anche nel salone dell'arcivescovato ok quindi si possono comprare lì e poi fare firma copia eccetera sì sì altrimenti uno se passa prima nello stand mondadori che ora non mi ricordo in che padiglione è e poi viene lì insomma e tu sei lì solo il 2 novembre o sei anche altri giorni? io sono lì solo il 2 novembre sì solo il 2 novembre? 4 novembre alle 4 per l'evento e poi sei un po' prima in padiglione mondadori cose di questo tipo cioè il stand no cioè non mi hanno detto niente quindi ok di sicuro c'è soltanto alle 16 al salone dell'arcivescovato come si chiama per l'evento questa è l'unica cosa sicura quindi se avete una copia da portare cioè sicuramente sarò sarò in giro quindi se mi beccate mi riconoscete mi volete tirare due schiaffi volentieri quindi ottimo mi sembra un'ottima cosa ora scusate per tutti quelli a cui non abbiamo risposto perché ci sono un sacco di commenti eccetera siamo a 2 ore 34 abbiamo avuto anche delle piccole difficoltà di connessione all'inizio scusateci oh che bello guarda chi c'è grandi grandi tanto qualcuno in un commento parlava del fatto se magari si è attivo nei social cose così perché ad occhiato che frequenti il gruppo legato al ah sì l'avevo visto quel commento tra l'altro volevo rispondere perché mi pareva chiedesse che tipo di pubblico avevo fatto nei social eccetera eccetera cioè relativo al crearsi il pubblico prima di venire pubblicato io assolutamente niente cioè io mi sono concentrato solo su sullo studio e sulla scrittura scrivevo nel gruppo Grimdark eccetera eccetera ma ci scrivevo semplicemente dal lettore nessuno in quel gruppo sapeva che io avevo la pubblicazione in ballo te lo possono testimoniare che ne so Jack se è qui vedo libri letali fratelli Grimdark insomma te li possono testimoniare tutti io nel gruppo in quel gruppo Grimdark Dark Fantasy ci scrivevo solo dal lettore facevo le mie recensioni avevo il profilo Instagram come hanno tutti dove facevo le mie recensioni dei film dei libri che leggevo ma senza pretese cioè nel senso me le vedevano i miei amici e mi prendevano per il culo basta quindi niente sto iniziando ad avere più follower adesso perché il mio nome è scappato fuori nelle copertine della roba fondatori ma non mi ero creato nulla da prima non sono solo concentrato sulla scrittura insomma e questo è un elemento interessante perché per dire il suo libro è percepito così bene e ha un potenziale di pubblico tale che sta riuscendo a vendere in libreria tant'è che le copie vengono riordinate eccetera anche se questo disgraziato non aveva nessun pubblico di base cosa che invece uno scrittore bello insegna che se appena appena è possibile modello come ha fatto Lorenzo Manara che si è creato una figura a un pubblico eccetera dove è possibile createvi una base di pubblico per vendere prima anche perché l'editore se è arrivato dicendo ho il canale YouTube con che so 50.000 iscritti magari automaticamente vi dà un 10 possibilità maggiore di contratto di quello che arriva e non lo dice perché non ce li ha quindi Andrea sta andando bene le cose sta andando molto bene anche volendo nonostante la badilata nei coglioni da solo se la sia data a non avere un pubblico che va bene sì 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 non ci sono riuscito semplicemente uno perché non volevo scappare fuori dicendo oh io verrò pubblicato con Mondatori cioè no non è assolutamente da me io volevo restare nell'ombra fino a che non allunciava la casa editrice ma non perché volevo restare nell'ombra per fare il figo perché non mi sentivo in grado di gestire casomai cioè perché dovevo andare a dire verrò pubblicato da Mondatori poi magari le cose andavano male e non mi pubblicavano più no cioè nel senso sono un po' scaramantico esatto e poi vabbè ci ho provato come fanno le persone normali cioè facevo le mie recensioni e niente però non arrivava nessuno ma perché ormai i social secondo me sono un po' intasati quindi ho porti veramente dei dei post insomma degli argomenti che hanno veramente qualità di cui non c'è veramente nessuno tipo Lorenzo Manara cioè che parla di roba storica in cui non c'è nessuno competente come lui a parte forse Barbero ma non lo so soprattutto nel trovare cose storiche divertenti che colpiscono il pubblico esatto le curiosità che hanno comunque a che fare col sovrannaturale anche esatto perché è facile fare le live da storico noiose vi parlo i dettagli noiosi in modo noioso lo sanno far tutti cioè gli articoli di storia non sono mai mancati su web ma quell'impronta come esempio la davo io su certe cose ancora un sacco di anni fa nel blog o Manara che la da oggi con youtube eccetera e quella è la cosa rara trovare quelle cose che piacciono al pubblico al pubblico interessa che ne so del prete cane di come in una vera storia del non mi credo se 200 o 300 inglesi hanno affrontato uno zombie proprio come l'hanno affrontato per davvero vicende vere di morti che tornano in vita e cose varie che non che ne so magari una cosa bellissima a livello storico dove uno per due ore parla dell'architettura sotterranea dei castelli lombardi ti fa vedere la lisca di pesce ti fa vedere bellissime quelle cose quelle sono cose da accademico da storico da mondo un po' intabarrato da università ma al pubblico non frega una sega al pubblico interessa sapere che ne so come funzionava quando sono stati inventati i preservativi e come erano fatti non gli interessa che ne so l'età media dei matrimoni in Borgogna certo l'età media dei matrimoni in Borgogna gli interessa se li stai portando che ne so nel contesto che so abbiamo un saggio della non mi viene in mente il nome è una casettrice famosa sulla prostituzione del medioevo che era pieno di cose dettagliate piccantine tu porti magari un video sulla prostituzione del medioevo e lì ci sbatti anche l'età media dei matrimoni ma per dare un contesto al perché serviva la prostituzione di altre cose ecco quindi cose interessanti cioè è proprio un approccio del sapere cosa è interessante per chi ami la storia cioè non hai valanghe di nozioni perché boh dici c'ho la laurea in storia o c'ho una laurea in altre cose ma sono appassionato la ingegneria ma sono appassionato però lo vedo solo come un insegnare al volgo e allora qualunque cosa ti sembra buona da insegnare ma c'è invece l'approccio del questa cazzo di cosa cazzo entusiasmante cazzo la voglio dire perché minchia è bellissima e allora ti vengono gli aneddoti veri è proprio una questione di approccio non di conoscenze c'è gente noiosissima che ha delle conoscenze pari o superiore a quelle di Lorenzo poi magari è noiosissima parlo di vulgatori americani italiani ci sono tanti Lorenzo comunque riesce a comunicare benissimo insomma ti appassiona ti intrattiene anche quando sbaglia qualcosa o ha delle imprecisioni ti prende talmente tanto che non contano non gli dai peso magari in privato gli dici ma non gli dai peso poi tipicamente no perché è molto preciso però succede anche succede a tutti succede anche a me dopo è scontato succede anche lui no? facevo gli articoli io allora talto volevo dire un'altra cosa carina prima di chiudere qui abbiamo immagino sia fisicamente Jack Sensolini perché del duo Sensolini mazza di solito è lui che si occupa di tutto a livello social mentre invece la scrittura se ricordo giusto è principalmente mazza con editing Sensolini ma non vorrei sbagliarmi che sono i padri del Grimdark in Italia cioè il Grimdark in Italia come etichetta e come opere non esisteva prima del loro arrivo e del loro portallo e anche per questo dico anche se potrebbe benissimo dire che è Grimdark Butini ha diciamo un approccio secondo me molto carino nel preferire Dark Fantasy proprio per non scavalcare in modo ingiusto la coppia Sensolini mazza quindi ignoranza eroica che non sono pubblicati con mondadori ma fisicamente come autopubblicati vi assicuro che vi lupera mattanza quei libri vendono anche più dei libri dei grandi editori mondadori andate a vedere cercate di incrociare i dati su Amazon e vendono tanto poi sono molto particolari perché c'è che la scrittura immersiva non è quella roba lì sono più nella direzione di una scrittura che ti un po' ubriaca leggendolo per la cosa che ha dentro un po' come quando dico che il paragone è più da fare con il libro Cuore Forse che a me fa impazzire o con certi libri di Benny che non con che non con i libri di Vapore Teppa ma sono loro che hanno portato ah ok scriviamo entrambi io ricordavo si ricordavo questo ma ricordavo una maggior presenza nell'editing da parte di Sensolini poi ricordavo male grazie grazie di informazione cioè il Grinder che in Italia se usiamo il termine Grinder 99% non è che Mondadori l'ha messo sul retro di un libro di Morgan in corsivo sul retro mi ricordo è stata mandata anche la foto a Sensolini all'epoca un anno e qualcosa fa due anni fa non ricordo non è per quelle per il loro lavoro ok quindi secondo me anche una bella cosa di sensibilità che Andrea preferisca Dark Fantasy a Grinder per non scavalcare ingiustamente poi la gente comincia a dire ah Buttini ha portato Grinder no è stato Sensolini se lo fa foro ma Sensolini è mazza a parte che di Grimdark in Italia l'hanno fatto loro per primi e ci sono anche tanti emulatori secondo me che pessimi anche insomma vorrei dire insomma cioè nel senso loro rimangono i migliori però lo dico anche perché io non faccio Grimdark cioè semplicemente anche per quello non lo fai apposta diciamo perché tecnicamente tutti i paletti di Grimdark cioè non sono i buoni sentimenti diciamo perché è la forza dell'amore ma è tipo vinciamo con la violenza fisica che poi è semplicemente il realismo per adesso perché la forza dell'amore conta tanto ovvio siamo come in Interstellar cioè no allora ovviamente metto il realismo ma perché è così che va la vita cioè nel senso ma il Grimdark è quello in buona parte il Grimdark è il realismo su dark fantasy però ecco diciamo che se paragoni le opere ovviamente cioè nel senso se paragoni Abercrombie giusto per non per non citare il ciclo di d'Italia prendiamo Abercrombie ovviamente che è chiamato Grimdark però diciamo che i paragoni che ne so Sanderson ok e gli mettiamo delle ambientazioni un po' più cupe un sistema magico più cupo Sanderson comunque non viene considerato Grimdark cioè nel senso io lo intendo in questo modo qui cioè nella mia visione lo so che sbaglio ma nella mia visione l'etichetta Grimdark ti dà un po' più di low fantasy ecco sì vero 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 sì automaticamente sì perché l'ha abbinato a George Martin ad Abercrombie tanto secondo me è ingiustamente perché tante volte con Grimdark la gente si immagina in modo sbagliato perché poi gli articoli lo spiegano che cos'è si immagina in modo sbagliato che sia molto più cupo del dark fantasy in realtà è più un approccio di realismo nello stesso modo in cui New World è un approccio di realismo al fantasy tant'è che infatti regolarmente diciamo ne ho parlato anche con sensoline che abbiamo fatto in passato che è più un tono e un approccio che non un genere se andiamo sulla realtà della cosa tu puoi avere un approccio Grimdark anche a un romanzo per esempio di ambientazione puramente storica non fantasy puoi avere l'approccio Grimdark volendo sì però se parliamo proprio dell'etichetta che viene messa sul romanzo ecco secondo me il mio non è Grimdark sì dark fantasy lo rispecchia è sicuramente meglio sì cioè proprio si sta parlando dell'etichetta che io odio però dicevo giusto per una questione di dire dove metto il libro sullo scaffale ecco esatto e lo scaffale diventa in Italia abbiamo fantasy fantascienza giovani lettori esatto perché non ci sono i generi quindi è quello e poi vabbè consigliati di tiktok il tuo finisce in fantasy e non in giovani lettori probabilmente esatto per dire ecco sì esatto Grimdark è un modo di fare fantasy tra l'altro recuperate se non l'avete vista era molto bella la live con Jack Sensolini maggio giugno scorso non ricordo quando sulla sua scelta tra editoria autopubblicazione tutti i discorsi fatti era molto bella intanto mi trovo sempre bene a fare live con Jack molto figa e comunque valeva la pena parlare di questa cosa cioè c'è tanta gente adesso non possiamo fare i nomi non ne vale la pena c'è gente che sta pubblicando libri dicendo chiaramente che sono Grimdark in un mondo autopubblicazione simili e si presentano come quelli che hanno portato Grimdark d'Italia quando non c'era signori quello è mentire sono stati ignoranza eroica a portare quella roba in un certo modo tra l'altro per me il loro Grimdark più esagerato rispetto alla mera definizione in cui ricadono Martini e Caber Cromby è il Grimdark veramente interessante il resto è semplicemente fare il realismo sul fantasy fine sul dark fantasy fare il realismo bene loro è l'approccio io non riesco a collegare il Grimdark se leggo Abercrombie e leggo Vilupera sono due cose diverse non mi sembra Grimdark Abercrombie e poi l'etichetta è nata su quella roba lì quindi secondo me fanno Grimdark in un modo più interessante dell'etichetta nata nel mondo anglosassone comunque si entra in un vespaio potrei dire che Abercrombie è storico in un secondary world esatto probabilmente sì con un accenno di sovrannaturale proprio esatto fantasy storico con accenno di sovrannaturale esatto c'è tutta la questione della suddivisione in tre o quattro del votif come ne insegno io cioè del genere con votif realistico non realistico che tipo di non realistico su cui si somma la tipologia di storia su cui si somma il tipo di ambientazione che va a creare il vero genere dal punto di vista del lettore che non è il genere dal punto di vista degli ebrei o di Amazon che fondamentalmente usano la classificazione guardate su Amazon mi sembra si chiami la pronuncia della bisac come si chiama pronuncia vabbè quella su Amazon della classificazione quella è la classificazione dei generi per Amazon e per gli editori i lettori non classificano i libri in quel modo in buona parte anzi ha tutto un altro modo e anche il modo di concepillo poi vede un approccio diverso esatto esatto grande sensolinio però possiamo dobbiamo inventarci una scusa per fare un'altra leva assieme ah probabilmente il gioco di ruolo giusto poi devo avere il tempo di leggere mano sinistra minchia ho ricevuto l'impaginato è bomba è bellissimo l'impaginato è una bomba Buttini te lo consiglio se ti piace il gioco di ruolo a Lucca dovrebbe uscire credo in anteprima mano sinistra si va e guarda che l'impaginato dentro è meraviglioso ho dato una sfogliata veloce proprio oggi perché mi ha dato il pdf una bomba non so quando avrò tempo di leggerlo però veramente sono quelle robe che dici cazzo proprio e a me non fa impazzire lo stile dell'autore però uno ti ci abitui due lì dentro con tutte quelle illustrazioni lo stile di come si chiama Genki non mi ricordo più l'illustratore vabbè veramente è bello è bello e ci sta da dio ti fa proprio ti dà proprio il senso una meraviglia veramente stiamo incensando sensolini a cazzo senza motivo né a live di book giusto ci soltiamo per finta ottimo mi serve una grande idea grazie sensolini che sei passato grazie mille speravamo di vederti anche perché serviva una piglia per parlare del tuo grind anche senza che fosse proprio a cazzo dei cane quindi bene così grande senti Andrea ho messo un 2 ore 49 io devo andare quindi se non abbiamo l'ispirazione per un commento particolare una relazione divina no per me va bene perfetto ci si becca a Natale con la teppa se riusciamo a coinvolgerti o un'altra live di qualche altro tipo io intanto ricordo a tutti per favore mettete mi piace su questa live così più persone potranno trovarla e magari trovarla in tempo per approfittare del regalo che arriva il 6 novembre alle 19 e è solo iscritta alla mailing lista tutti gli iscritti anche chi non ha i miei corsi normali iscritti chi ha il corso avanzato e non è iscritto perché si è cancellato per non avere le mail di avviso perché tanto segue il canale youtube eccetera in quel caso semplicemente troverete tutto nel corso avanzato ok se faccio un tempo ve lo metto già il 6 novembre se no ve lo metto uno o due giorni dopo ma avrete tutto mentre invece chi non ha il corso avanzato signori si beccherà il materiale l'analisi intera del primo capitolo dell'occhio del gufo sono due ore e mezza di analisi del testo più introduzione più altri commentini sono circa tre ore complessive in omaggio in regalo finché c'è c'è prima o poi la toglierò quindi ve la godete finché c'è e la riceverete soltanto se siete iscritti entro il 6 novembre alle 19 perché alle 19 parte la mail e chi c'è c'è chi non c'è non c'è chiaro? benissimo bene signori grazie a tutto grazie Buttini che ci ha portato la tua esperienza e hai avuto pazienza di fare stare gigante grazie a tutti scusate per i problemi di connessione purtroppo a vivere nei boschi funziona così grande grazie a tutti ci si becca la prossima e ricordatevi tenete da parte i soldini perché la settimana del backfire vi arriva una roba che non avreste mai pensato potessi portare io come contenuto ok signori è proprio il tipo di roba che non potevate aspettarti ed è il tipo di roba che vi serverà al 100% e vi mangerete le ginocchia come dei cannibali se non l'avete poi magari fallite la vostra carriera se volete avere una roba come quella di Andrea Buttini cioè arrivare al grande editore subito con la proposta fatta bene con i giusti ragionamenti e anche con delle cose fatte meglio di come abbiamo potuto fare in questo caso perché francamente chi cazzo sapeva come funzionava esattamente l'abbiamo scoperto dopo che sono passati due anni nel frattempo quindi signori grandi così e buono studio e buone cose ciao ciao a tutti